Extraterrestri, chi sono? Perché vengono sulla Terra? Un contatto che va avanti da millenni. Le straordinarie esperienze di Marco Mansili con i Viandanti delle Stelle raccontate nel suo ultimo libro. Cari amici, benvenuti alla prima puntata del nostro seminario di approfondimento sul grande contattista Our Manager. In questa prima puntata parleremo degli argomenti che abbiamo citato durante l'introduzione e in generale in tutto questo seminario noi cercheremo di capire la figura di Our Manager, cercheremo di approfondire alcuni aspetti della sua vita e sicuramente tutto quello che lui ha portato avanti come missione di divulgazione della realtà extraterrestre. Quindi parleremo dei messaggi da lui trasmessi e degli insegnamenti che ha trasmesso per conto degli extraterrestri questo grande contattista, ma io inizierei a parlare innanzitutto di che cos'è il contattismo. Andiamo a leggere le nostre prime slide che parlano proprio di questo discorso introduttivo. Ecco, nel corso della storia umana vi sono sempre state persone che hanno dimostrato di essere in contatto con una realtà altra rispetto alla realtà comune vissuta da tutti gli altri, una realtà diciamo extraumana, extraterrestre, extradimensionale. Dagli sciamani ai più moderni medium, passando per gli antichi profeti, i mistici anche di tutti i tempi, l'umanità è sempre stata in contatto con questa realtà altra. Non è una cosa nuova, è sempre stata l'umanità in contatto con la realtà che oggi definiamo cosmica trattino spirituale, che io dico sono due facce della stessa medaglia. Ecco, l'umanità è sempre stata in contatto con questa realtà altra che si manifesta alla gente del popolo tramite personaggi particolari, che fanno proprio da tramite, scusate il gioco di parole, a questi messaggi che provengono dalla dimensione altra, dalla dimensione sovramundana, come si chiama. Ecco, i contattisti sono tra questi personaggi, tra questi medium, se vogliamo chiamarli con questo termine forse un po' abusato, questi mezzi. Ecco, sono i contattisti dei veri e propri ambasciatori di un regno situato al di là delle esperienze ordinarie. e si tratta di un regno che abbraccia, come abbiamo detto, le sfere cosmiche e spirituali, che, ripetiamo, sono due facce della stessa medaglia, e si tratta di un regno, questo sovramundano, che contiene e compenetra il regno materiale, fisico, di cui facciamo esperienza ordinaria tramite i nostri cinque sensi tutti i giorni. sono, diciamo, si compenetrano vicendevolmente, o meglio, è la realtà sovrasensibile, la realtà energetica, psichica, spirituale, che compenetra e ingloba la realtà materiale, fisica. Di nuovo continuiamo a parlare un attimo del contattismo per introdurre. Nel secolo scorso questa cosiddetta realtà altra si è manifestata con maggior frequenza rispetto alle epoche precedenti. E negli ultimi settant'anni, soprattutto negli ultimi settant'anni, ha dato prova della sua concretezza, questa realtà cosmico-spirituale, ha dimostrato che è una realtà operativa, è una realtà attiva all'interno della storia umana, una realtà che interviene, appunto, nella vita dell'uomo, e determina le trasformazioni che producono l'evoluzione della società. L'incedere dell'evoluzione della società umana è determinato dall'interazione con questa realtà altra, con questa realtà cosmico-spirituale. Di questo noi dobbiamo prenderne coscienza, assolutamente. Questo fatto è poco noto, o per nulla noto, vorrei dire, alla stragrande maggioranza delle persone, perché viene omesso, viene accuratamente omesso, taciuto, negato, ridicolizzato, da chi? Dai mezzi di comunicazione di massa, che sono, lo sappiamo, sono mezzi al servizio di un potere comunque mondiale, vuoi istituzionale, vuoi più o meno occulto, insomma, è un potere mondiale, che è assolutamente interessato a mantenere segrete queste verità, perché queste verità, se venissero adeguatamente diffuse e comunicate al popolo in maniera coerente, precisa, puntuale, magari con una serie di documentari fatti bene, di trasmissioni televisive e radiofoniche ben fatte, architettate a dovere, per fare in modo che la stragrande maggioranza della popolazione umana venga a sapere, a conoscere la verità, ecco, queste informazioni, appunto, se venissero comunicate in questa maniera, provocherebbero sicuramente una presa di coscienza collettiva e, di conseguenza, una trasformazione enorme, un cambiamento radicale dello status quo. In sostanza sarebbe la fine, proprio la fine, del potere attuale, dell'attuale potere economico, politico, culturale, mediatico, educativo, ovviamente con tutti gli annessi e i connessi, quindi è per questo che viene taciuta questa realtà, è per questo che vengono taciute queste informazioni, perché se noi diamo per assunto, diciamo, premesso che, posto che i mezzi di comunicazione di massa sono nelle mani di certi istituti di potere o comunque di certe, chiamiamole caste, anche qui un termine forse un po' abusato, ma rende bene l'idea, e non è così un discorso complottista, è la realtà. Ci sono le aziende dei mass media che sono in mano a dei personaggi, a delle realtà, e sono collegate ad altre realtà aziendali a loro volta, insomma ci sono degli interessi da mantenere, interessi sicuramente collegati all'aspetto politico, all'aspetto economico, all'aspetto educativo, vorrei dire diseducativo, all'aspetto culturale e così via, e tutto questo, chi gestisce questo tipo di potere, non vuole che cambi, perché dovrebbe cambiare vita, dovrebbe cambiare, dovrebbe perdere la lana, la carne e il latte del greggio che sta amministrando, e questo non vogliono, è per questo che vengono taciute queste informazioni, per questo che viene taciuta questa realtà sovramundana, questa realtà cosmico-spirituale, ripeto, addirittura viene ridicolizzata, ma oggi ormai, con il livello di informazioni che abbiamo a disposizione, ridicoli sono coloro che negano, quindi non c'è nemmeno partita, parlare con chi nega ad oltranza la realtà cosmico-spirituale, non ne vale la pena, è come sparare sulla croce rossa, cioè stai parlando o con un pazzo, o con un ignorante, che non vuole redimersi dalla sua ignoranza, non vuole la conoscenza, quindi è ostinato e arrogante nella sua ignoranza, oppure stai parlando con qualcuno che mente, sapendo di mentire, quindi in ogni caso non ne vale la pena, noi portiamo avanti questo genere di divulgazione, questo genere di seminari, appunto anche per produrre coscienza nel tessuto sociale, nella popolazione innanzitutto italiana, ma anche estera, perché abbiamo collaboratori nelle Americhe, abbiamo collaboratori in varie parti d'Europa, e così via, quindi siamo connessi con il mondo in questo senso, e al di là dei mezzi di comunicazione di massa, oggi attraverso anche questi seminari, attraverso i nostri canali, abbiamo la possibilità di veicolare delle informazioni corrette, quindi l'intera società, abbiamo detto, se venisse a contatto con queste informazioni, l'intera società si trasformerebbe nel giro di pochi anni, è per questo che i grandi poteri mondiali ostaconano la diffusione della verità, ripeto, sembrano discorsi appunto complottisti, ma oggi hanno inventato questi termini, complottisti, giustizialisti, buonisti, bisogna capirci, se il complotto esiste, il complottista è un realista, è una persona che sa come stanno le cose, fine, non è un complotto, perché la parola complottista viene utilizzata in maniera così dispregiativa per definire anche una certa qualità di persone che in maniera così un po' superficialotta pensano che è tutto un complotto nel mondo, noi abbiamo le prove anche giudiziarie, leggetevi i libri dell'ex magistrato Carlo Palermo e poi ne riparliamo, abbiamo le prove anche giudiziarie che il complotto esiste, i complotti sono sempre esistiti, ergo, dunque, qualsiasi informazione mi viene dai mass media, dai mezzi di comunicazione di massa, qualsiasi invito, qualsiasi insegnamento, qualsiasi input mi viene dai poteri costituiti, dalle istituzioni e così via, la mia prima reazione è da persona intelligente, quale dovremmo essere tutti, la nostra prima reazione dovrebbe essere aspetta un attimo che so 5.000 anni che ci raccontate fesserie, quindi come prima reazione il mio è no, la seconda cosa è spiegamelo bene perché lo devo capire, ecco, quindi noi dobbiamo avere questo atteggiamento anche fiero, non sempre di sudditanza nei confronti di un potere che esiste realmente, che ci ha sempre mentito spudoratamente, sempre, sempre, sempre significa sempre, ci sono state all'interno di questo potere menzognero ovviamente delle eccezioni, questo è indubbio che ci sono state delle grandi eccezioni, e noi siamo amici di quelle eccezioni, di quegli eretici, quindi li prendiamo anche come punto di riferimento, adesso non sto a citare nomi di grandi personaggi politici o comunque istituzionali che hanno significato una eccezione nello status quo, ma in generale le istituzioni da millenni mentono al popolo, quindi qualsiasi cosa viene da loro e dai loro mezzi di informazione, io la prendo come dovremmo fare, come dovrebbe fare ogni persona dotata di intelligenza, la prendo così, con il beneficio del dubbio, come minimo, ok? Quindi, oggi, però, oggi, tutti gli uomini di questo pianeta, volenti o nolenti, indottrinati o meno, ipnotizzati o meno, devono fare i conti con queste sfere cosmiche e spirituali, con questa realtà sovramundana, perché? Perché è in atto un grande disegno che coinvolge l'intera umanità e ce ne stiamo accorgendo e ce ne accorgeremo sempre di più, è un disegno che si compirà, arriverà a compimento, che ci piaccia o meno, arriverà a compimento secondo delle logiche superiori alle nostre, secondo le logiche della intelligenza o delle intelligenze che governano l'universo, governano l'evoluzione universale. Noi dobbiamo renderci conto che siamo all'interno di un panorama universale complesso, non siamo questo piccolo pianetino con i piccoli berluschini, renzini, bambini, questi orzacchiotti, questi bambini cresciutelli che si sentono potenti perché hanno quattro spicci e quattro persone che li seguono. Noi siamo inseriti in un contesto universale di fronte al quale, che poi è un contesto fisico ma anche spirituale, di fronte al quale i nostri piccoli giochetti interni scompaiono, sono nulla. Ecco, noi siamo in contatto con questo contesto universale e ne divulghiamo gli insegnamenti. Questo dobbiamo metterceli in testa. Noi non siamo soltanto qui sulla Terra. L'uomo esiste in tutto l'universo. L'uomo, noi, esistiamo in tutto l'universo. Qui sulla Terra, gli uomini che vivono su questa Terra sono sotto embargo al momento, perché è come un manicomio criminale a cielo aperto. Vengono mandati dei messaggeri, vengono mandati dei medici, degli infermieri, che puntualmente vengono aggrediti, uccisi, crocifissi e così via. Ma il contesto che noi dobbiamo imparare a pensare, ad inquadrare, è universale, cosmico. Non è più questo pianetino. Già, sto parlando così, ma tanta gente già se avesse una visione planetaria della vita già sarebbe un grande successo. Molto spesso la gente ha una visione addirittura cittadina della vita, locale proprio, periferica. Beh, non è il nostro caso sicuramente. E vi invitiamo ad avere questa visione universale. I contattisti, contattati da esseri provenienti da altri mondi e dimensioni, sono i pionieri di una scienza, che è una scienza cosmica, che, diciamo, annuncia essa stessa un futuro che sta arrivando e travolgerà con la potente e invincibile luce delle grandi verità, travolgerà e vincerà e sconfiggerà la tenebra dell'ignoranza, il buio dell'incoscienza. Queste tenebre dell'ignoranza sono comunque destinate a svanire sotto la sferza degli eventi che incalzano per il risveglio dell'umanità. Questi eventi che stiamo vedendo, oggi ce ne abbiamo maggior coscienza, grazie al fatto che ci hanno colpito in senso proprio mondiale, internazionale, mi sto riferendo al covid-19, ne abbiamo maggior coscienza. Ci sono in corso degli eventi che si velocizzeranno e si sclerotizzeranno sempre di più, saranno sempre più vicini l'uno all'altro e si sovrapporranno, eventi anche traumatici che serviranno per farci svegliare. Questo è quello che sta accadendo, perché gli eventi, tutti gli eventi che avvengono nella sfera fisica della realtà sono eventi comandati da potenze spirituali, cioè dalle intelligenze che governano l'evoluzione poi psichica e fisica della realtà. Quindi anche quando noi vediamo crescere, sbocciare un fiore, lì dietro c'è un input spirituale. Questo è importante da capire, dobbiamo aprirci a questa scienza. È una scienza, la scienza dello spirito. Queste cose le possiamo anche dimostrare con delle ricerche avanguardistiche in ambito scientifico, sebbene la ricerca sperimentale e il metodo sperimentale galileiano sia menomato di fronte alla possibilità di comprendere certi avvenimenti, perché il metodo galileiano si basa sulla ripetibilità, riproducibilità dell'esperimento stesso in uguali condizioni, in vari luoghi diversi. Questo non è sempre possibile quando si parla di eventi spontanei o di eventi spirituali appunto che prevedono una imprevedibilità. da parte del nostro metodo di indagine. Quindi è un po', il metodo scientifico è un po' debole, deve essere riformato anche questo, alla luce della scienza dello spirito insegnata dai maestri universali. Questo si può fare, bisogna avere la buona volontà di farlo. Quindi perché ho detto questo? Perché stanno avvenendo degli accadimenti in corso che noi dobbiamo imparare ad osservare con la lente della consapevolezza. Dobbiamo utilizzare la lente del discernimento e dell'intelligenza per capire che ogni evento è una metafora vivente. Ogni evento ha un significato, ha un senso. È un senso fisico, un senso analogico, psichico o psicologico addirittura e un senso simbolico di livello superiore, un senso spirituale, un senso che riguarda la sfera delle idee, diciamo così, un significato archetipico. Ecco, noi dobbiamo abituarci a pensare in questi termini perché la vita è questo, noi siamo questo, siamo questa triplice natura fisica, psichica e spirituale in uno. E gli eventi che noi viviamo avvengono in base a questa realtà che è la realtà cosmica, che è la realtà vitale e umana, che è la realtà cosmica stessa di cui noi facciamo parte. Quindi tutto quello che accade va interpretato in varie maniere. Il covid esiste, ok, esiste perché c'è una ragione fisica che l'ha scatenato, ma quella ragione fisica deriva da una ragione, se vogliamo chiamarla energetica, psichica, ecco. E' una ragione che dipende dal comportamento degli esseri umani, che poi è un comportamento che non è soltanto quello che si manifesta fisicamente con le azioni, perché il comportamento deriva dalla sfera del pensiero, dalle emozioni, il comportamento deriva dalle scelte dell'uomo. Quindi, ok, è qualcosa che esiste fisicamente, ma è qualcosa che deriva dall'interiorità dell'uomo, dalle scelte dell'uomo, perché non pensate che il covid o altri virus che verranno siano generati dalla natura così, per nulla. Sono generati come autodifesa nei confronti di una umanità perversa e malvagia, che con le sue opere nefaste, con la sua arrogante indifferenza nei confronti dei gemiti, dei pianti disperati del pianeta stesso, sta assassinando, sta attentando alla vita della Terra. Quindi lei si difende. Ecco, quindi dalle nostre scelte è venuto fuori il covid. E le nostre scelte da cosa dipendono? Da un livello ancora superiore, che è la nostra conoscenza, la nostra evoluzione spirituale, il nostro grado evolutivo che si evince dalla capacità di amare. La nostra capacità di amare è molto scarsa su questa Terra. E quindi ecco gli effetti quali sono. Ma gli eventi che si stanno manifestando producono dei traumi psichici e spirituali, oltre che fisici, dei traumi collettivi che ci sveglieranno e devono svegliarci. L'umanità oggi ha raggiunto un livello tecnico-scientifico che le consente di comprendere una realtà che in passato non poteva comprendere. Oggi, ad esempio, possiamo capire la vera natura di questi visitatori provenienti dalla realtà altra, dalla realtà extraterrestre, extraplanetaria e dalla realtà spirituale, perché di questo si tratta. I visitatori che contattano gli uomini della Terra provengono dall'infinito universo per offrire un messaggio di pace e giustizia, di evoluzione e di redenzione, di ravvedimento e di salvezza, prendendoci per mano per accompagnarsi verso la realizzazione della fratellanza cosmica. Perché è questo che loro desiderano per noi. Non ci sovrastano in questo, ma ci indicano la via di questa fratellanza cosmica, che conviene a tutti. A chi non conviene la fratellanza cosmica? Ai pazzi, a quelli che pensano che il potere sia nei soldi o nei possedimenti materiali. Ma è un'assurdità, è una pazzia, è una follia, perché la fratellanza cosmica, cioè l'integrazione, chiamiamola, perché fratellanza cosmica sembra una cosa troppo hippie, noi siamo un po' hippie per certi versi, ma siamo anche molto militareschi per altri versi. Ecco, chiamiamola integrazione cosmica. L'integrazione cosmica conviene a tutti, a tutti, tranne che ai pazzi che non sanno che conviene a tutti e non capiscono che conviene a tutti. Conviene a tutti da tutti i punti di vista, dal punto di vista sicuramente della conoscenza, quindi dal punto di vista spirituale, dal punto di vista delle emozioni, dei sentimenti, perché entrare in relazione con miliardi di altre civiltà ci può portare ad una evoluzione enorme che ci fa vivere una emotività differente, più evoluta. Conviene sicuramente, quindi anche dal punto di vista della evoluzione spirituale, no? E conviene sicuramente anche dal punto di vista materiale, perché queste civiltà sono ricchissime, vivono nel lusso sfrenato, il necessario a tutti, il superfluo a nessuno. Ma il necessario per loro, che hanno vinto le problematiche della materia, il necessario per loro potrebbe benissimo essere villa con piscina, con jet privato, e con astronave privata, ovviamente, perché il jet lì non ce lo hanno, ha reazione, hanno l'astronave. Che non è nemmeno privata, perché poi la proprietà privata in queste superciviltà non esiste, esiste una condivisione di tutti i beni, che ce ne sono a non finire, e sono perfetti, diciamo, tecnologicamente e qualitativamente. Quindi, per loro, il necessario loro, significa, per me il necessario cos'è? Un piatto di pasta a pranzo e una fettina di carne a cena? Per loro il necessario è viaggiare nel cosmo. Ecco, quindi, il necessario significa avere l'astronave, significa avere la possibilità di viaggiare in astronave, quindi, un livello qualitativo di vita, per noi, inimmaginabile. significa una evoluzione anche psicofisica inimmaginabile, una perfezione psicofisica, perché hanno vinto tutte le malattie. Cioè, quindi conviene a tutti l'integrazione cosmica, da tutti i punti di vista, anche dal barbaro punto di vista materialistico della ricchezza, dell'accaparramento delle ricchezze. Non c'è più questo problema. Quando hai una tecnologia che ti permette di avere delle risorse di approvvigionamento energetico illimitate e pulite, hai una tecnologia che ti permette di avere il sistema industriale quasi completamente automatizzato, quindi la gente è libera di poter lavorare, non so, quattro ore ogni mese e così risponde al fabbisogno lavorativo planetario senza nessun eccesso e con tutto il tempo di dedicarsi alla vita, a vivere anziché a lavorare. Ecco, quando tu hai una società del genere, dove sta il problema? Il problema non esiste più. Noi siamo così feroci l'uno contro l'altro perché pensiamo che è tutto qua, che è tutto limitato, guardiamo la realtà in questi termini, ma la realtà è un'altra. Abituiamoci a pensare che la realtà è un'altra, perché questo nuovo paradigma deve entrare. Questa è la rivoluzione che stiamo facendo. Questa è la rivoluzione delle idee, è la rivoluzione della conoscenza, è la rivoluzione per la nuova civiltà, è la rivoluzione solare, la rivoluzione universale che stiamo portando avanti, ovviamente nel nostro piccolo, ma dietro di noi ci sono questi signori delle stelle. Quindi siamo dei piccoli servitori di una verità che ci coinvolge tutti e coinvolge anche coloro che se ne fregano, anche coloro che non vogliono sentirci parlare. Busseranno anche alle vostre porte i signori delle stelle. Quindi preparatevi, prepariamoci, ok? Questa è la rivoluzione. Dare una informazione corretta e quindi formare la mente delle persone in maniera armonica, equilibrata e in sintonia con la realtà, con la verità. Non pensare una cosa e dirne un'altra. Non avere nel cuore una cosa e mostrare una faccia diversa da quello che si ha nel cuore. No, dobbiamo essere veri, sinceri e portare queste conoscenze di verità all'attenzione del maggior numero di persone possibili. Poi ognuno sceglierà quello che vuole fare. Non si può fare tutto e non si può scegliere noi al posto degli altri, sicuramente. Però quello che possiamo fare è rappresentare un'alternativa concreta. Noi dobbiamo, se abbiamo capito come stanno le cose, dobbiamo, ci viene spontaneo essere e rappresentare un'alternativa al delirio dilagante della società umana. Questo lo possiamo fare grazie alle conoscenze universali che ci vengono trasmesse dai maestri cosmici, sicuramente, che sono poi le conoscenze che sono state trasmesse da tutti i grandi avatar, da tutti i grandi istruttori di civiltà, i civilizzatori della storia. Mi riferisco a Buddha, mi riferisco a Krishna, a Rama, anche a Maometto per molti versi. Mi riferisco a Confucio, a Lao Tse, a Zoroastro. Insomma, al vertice di tutti mi riferisco a Gesù Cristo, sicuramente. quindi questi personaggi extraterrestri portano sulla Terra un'amplificazione ed un approfondimento delle antiche rivelazioni fatte da questi personaggi che erano accompagnati dagli extraterrestri. Un tempo venivano chiamati angeli, poi faremo qualche accenno. Quindi, ecco, ci prendono per mano questi esseri e in un modo discreto e rispettoso senza prevaricarci, si fanno vedere da chi, soprattutto da chi li vuole vedere, ma sempre con discrezione. Se uno ha paura loro scompaiono immediatamente. Ecco, ci prendono per mano delicatamente per portarci alla integrazione cosmica che è la nostra salvezza perché è quello che è la cosiddetta confederazione interstellare. La confederazione interstellare è l'insieme delle civiltà positive che hanno raggiunto uno stato evolutivo coerente e che non cadono più perché si aiutano vicendevolmente, quindi non regrediscono più ma progrediscono costantemente. Sono le civiltà cosiddette redente, ecco, se vogliamo. Cioè, hanno ricevuto anche loro la visita della intelligenza onnicreante che noi chiamiamo Dio. L'intelligenza onnicreante si è incarnata anche nei loro mondi e loro non l'hanno messa in croce, non l'hanno ridicolizzata, non gli hanno sputato in faccia ma l'hanno accolta. L'hanno accolta e hanno messo in pratica la loro divinità che poi è la stessa per tutti e si manifesta in forme diverse nell'universo ma è sempre questa grande intelligenza onnicreante. Ecco, loro l'hanno accolta e quindi sono civiltà cosiddette redente. Queste civiltà redente hanno raggiunto un livello etico ed un livello di evoluzione etica, di evoluzione emica e di evoluzione scientifica per noi inimmaginabile, stabile, coerente, concreto e quindi sono civiltà redente. Questa confederazione interstellare che ci chiama alla integrazione cosmica è in termini teologici il cosiddetto regno dei cieli. Ok? Quello è il regno dei cieli. Cos'è il regno dei cieli? È un regno dei cieli. Fine, lo dice il termine stesso, lo dice, È il regno dei cieli. Il regno dei cieli nei nostri termini attuali si chiama confederazione interstellare. Bello, no? Alcuni contattisti hanno divulgato concetti scientifici innovativi, altri hanno promosso nuovi ideali etici e filosofici, altri ancora hanno insegnato il senso della vita e la vera spiritualità portando sul piano della logica attuale le conoscenze religiose vecchie e obsolete. Le favolette le hanno portate sul piano della logica attuale, quindi insomma ci hanno insegnato tante cose, questi contattisti ci insegnano. Tutti comunque contattisti autentici hanno compreso l'importanza del messaggio che hanno ricevuto e quindi di conseguenza inevitabilmente hanno dedicato tutta la loro esistenza alla diffusione del grande discorso che arriva dal cielo alla terra. Alcuni contattisti hanno fallito, vedremo poi come andrà anche la storia di Menger, alcuni contattisti hanno fallito la propria missione, altri si sono confusi o si sono lasciati confondere, comunque sicuramente tutti hanno commesso degli errori inevitabilmente, ma in ogni caso la loro esperienza, l'esperienza di questi contattisti è una testimonianza di verità, è una testimonianza di verità nel mare tempestoso dell'ignoranza generale e dell'inganno anche, quanti falsi contattisti ci sono oggi in giro, tantissimi. L'esperienza di questi autentici contattisti ovviamente non deve essere il fine della nostra ricerca, come si dice è il dito che indica la luna il contattista o l'esperienza del contattista non è la luna non è la meta è il dito che indica la luna è un indicatore indica la via da percorrere l'esperienza del contattista e gli insegnamenti da lui trasmessi nonostante quindi le imperfezioni del messaggero noi dobbiamo badare al messaggio ok? alla coerenza del messaggio è quello che dobbiamo studiare e dobbiamo capire il messaggio dobbiamo soprattutto metterlo in pratica per realizzare questi valori universali sublimi che sono gli stessi valori che le civiltà cosmiche della confederazione interstellare hanno già realizzato e messo in pratica da molti millenni alcuni da milioni di anni altri da miliardi miliardi di anni quindi hanno miliardi di anni di evoluzione più di noi il contattista quindi è un ponte che conduce alla conoscenza della verità che rende liberi vorrei spendere qualche parola allora ho detto che bisogna badare al messaggio e non al messaggero questo è sicuramente vero in linea generica ma anche qui non dobbiamo essere dogmatici perché? perché noi dobbiamo sicuramente anche osservare un po' la vita del messaggero perché ok il messaggio bellissimo perfetto ma tu che fai nella vita caro messaggero cioè non è diciamo i tempi sono cambiati oggi anche le forze avverse sono più astute più sottili quindi dobbiamo osservare anche sicuramente la vita del messaggero se il messaggero se la vita del messaggero è coerente con il messaggio allora c'è una grande probabilità che il messaggio sia autentico se la vita del messaggero non è coerente con il messaggio forse l'esperienza di questo messaggero non è poi così autentica bisogna capire se io do messaggi di pace e amore e poi picchio tutta la famiglia che messaggero del cielo sono ho i miei dubbi che sia un messaggero autentico e che la sua esperienza sia un'esperienza autentica quindi bisogna anche stare attenti a questo la coerenza del messaggero perché e c'è un altro aspetto da considerare oggi più che mai quindi abbiamo detto badare al messaggio e non al messaggero non deve essere un dogma di fede perché non è una religione ufologica questa che stiamo portando avanti bisogna osservare sì badare al messaggio e non al messaggero ha un altro senso questa frase non significa badare al messaggio fregandosene di chi è il messaggero così superficialmente significa badare al messaggio senza affezionarsi al messaggero senza legarsi al messaggero perché il messaggio resta il messaggero anche quando è autentico il messaggero può cadere può sbagliare quindi affezionarsi in maniera da creare un legame che compromette la nostra capacità di discernimento sui suoi eventuali errori è pericoloso diventa un comportamento settario è pericoloso molto pericoloso è un comportamento dogmatico noi dobbiamo scongiurarlo un comportamento del genere dobbiamo evitarlo in tutti i modi quindi noi dobbiamo guardare al messaggio studiare realizzare mettere in pratica il messaggio qualora vediamo che il messaggero è autentico dobbiamo mettere in pratica il messaggio ma nel frattempo dobbiamo capire che il messaggio resta ha il valore eterno fino a nuova rivelazione diciamo mentre il messaggero è fallibile ok quindi non dobbiamo badare al messaggero ma al messaggio ecco in questo senso queste sono le parole che volevo spendere altrimenti creiamo nuovi dogmi no come la verità non si vende non si compra questa frase che è diventata un dogma la verità non si vende non si compra non significa che se io scrivo un libro non posso chiedere alle persone di fare un'offerta per cercare di coprire le spese di stampa e spedizione perché altrimenti sto vendendo la verità no non è questo la verità non si vende non si compra è una frase una sioma che ha un valore molto più elevato di questo sciocco superficiale che gli viene attribuito da persone penso superficiali così come interpretano il messaggio allora il messaggio di questo concetto assiomatico la verità non si vende non si compra è un altro è più elevato significa che per quanti soldi tu potrai dare a qualcuno che conosce la verità quel qualcuno non potrà vendertela la verità perché anche se tu gli dai tutti i tuoi beni la verità lui non te la può conferire grazie al fatto che tu gli hai dato tutti i tuoi beni quindi è invendibile la verità non si vende non si compra la verità non si vende significa che la verità è invendibile chi può vendere la verità la verità va realizzata anche se tu mi dai tutto quello che hai io non posso venderti quello che ho dentro di me lo devi far crescere dentro di te devi impegnarti personalmente ecco cosa significa che la verità non si vende non che uno non può chiedere un'offerta per coprire le spese di stampa e spedizione di un libro o un'offerta una libera offerta per coprire le spese di lavoro che ci sono per fare un seminario da 279 slide a colori scritte dove ci sono dietro 6 mesi di studio ecco non significa questo che la verità non si vende significa quello che ho appena detto cioè che nessuno può venderti la verità te la devi realizzare la verità te la devi coltivare dentro la devi cercare trovare e assaporare da solo e la stessa cosa vale viceversa per la verità non si compra come puoi comprare la verità come puoi come puoi pensare di comprare la verità di acquistare la verità sei già un pazzo di partenza un materialista che pensa di poter comprare qualcosa che nessuno può comprare quindi abbiamo spiegato anche questo e andiamo avanti quindi abbiamo detto il messaggio non il messaggero comunque la loro esperienza è un'esperienza l'esperienza dei contattisti dico è un'esperienza che testimonia una verità che dobbiamo capire di cui dobbiamo prendere atto Our Menger finalmente Our Menger perché si pronuncia Menger è stato uno dei maggiori contattisti del secolo scorso ha collaborato con gli uomini dello spazio per promuovere una nuova coscienza in questo pianeta gli insegnamenti extraterrestri che Menger ci ha trasmesso sono validi anche oggi e gli aneddoti delle sue esperienze sono capaci di spalancare le porte della nostra immaginazione verso quella realtà altra di cui abbiamo parlato verso quella realtà cosmico-spirituale che è molto molto più vicina di quanto pensiamo e andiamo a conoscere il grande Our Menger Allora Our Menger nasce a Brooklyn il 17 febbraio del 1922 il padre è un cattolico irremovibile la madre è una inflessibile metodista è la madre che trasmette a Menger la la consapevolezza la certezza di un creatore infinito e onnipresente questo concetto in seguito sarà confermato ad Our Menger proprio dagli extraterrestri sarebbe stato questo concetto del creatore infinito e onnipresente sarebbe stato confermato e anche approfondito dagli extraterrestri all'età di un anno va ad abitare con i genitori a Grantwood fino al 1930 quindi all'età di un anno quindi lui è nato nel 1922 nel 1923 fino al 1930 va ad abitare a Grantwood con i genitori all'età di otto anni si trasferiscono però in un luogo che diventerà famoso in tutto il mondo grazie alle sue esperienze quando quindi Menger ha otto anni si trasferiscono ad Ikebridge nel New Jersey del nord in un piccolo bungalow di campagna si trattava di secondo i racconti di Menger di un vero paradiso naturale ricco di alberi da frutto prati sconfinati fiumi boschi insomma Our con il fratello il fratellino che ha la metà dei suoi anni e 4 anni e insieme anche ad altri bambini che d'estate arrivavano lì con le famiglie per trascorrere le vacanze c'era una pensioncina lì vicino a casa loro quello è è un paradiso è un luogo di avventure meravigliose Our Manager insieme a questi amici e al fratellino diventa il piccolo esploratore di questi luoghi potete immaginare io posso immaginare sicuramente ho vissuto un'infanzia in questo senso fortunata dove ho avuto la possibilità di andare tutte le estati quasi tutte le mattine di estate quindi per tre mesi ogni anno in montagna bellissimo in collina in realtà perché la montagna più alta di Gubbio supera di poco i mille metri se non sbaglio quindi si tratta comunque di colline non è alta montagna andavamo quasi tutte le mattine quindi posso capire quello che significa l'esplorazione di questi luoghi naturali non finisci mai di divertirti ho trovato anche le fotografie non so se avete notato iBridge degli anni 30 non è stato facile e l'ho ricolorata con con un programma che che è un software che riesce a riprodurre i colori originali della fotografia a grandi linee ovviamente non è perfetto però si vedono già un po' i verdi e così via ho utilizzato lo stesso programma anche per ricolorare le fotografie di Hour Manger che Hour Manger ha scattato sulla luna ho utilizzato quel programma il primo contatto che succede? succede che Hour Manger e il suo fratellino vedono atterrare un disco volante Hour è un bambino felice ma allo stesso tempo ci dicono le cronache è un bambino lievemente malinconico e lui racconta nel suo libro vi ho detto vi ho anticipato che per certi versi è quasi quasi un audiolibro questo seminario perché leggerò molti stralci molti stralci tradotti per la prima volta in italiano dai collaboratori del grande nostro mentore Pier Giorgio Caria tradotti per la prima volta in italiano dal libro il cui titolo è Dallo spazio esterno a voi proprio di Hour Manger quindi leggerò molti di questi stralci e Manger ci racconta in questo ambiente pastorale nella calda sontuosa esagerazione di giugno e luglio ho iniziato ad avere dei flashback ricordi sfumati di scene luoghi e avvenimenti che in qualche modo mi erano familiari ma erano fuori dalla mia esperienza reale parevano essere di un altro mondo pressa poco in questo periodo abbiamo iniziato a vedere i dischi nel cielo li vedevamo passare attraverso il cielo librarsi e qualche volta scomparire i miei compagni di gioco non sempre li vedevano ma io parevo proprio percepire quando guardare in su mio fratello ed io abbiamo continuato a vedere gli splendenti oggetti circolari nel cielo ed un giorno uno di essi è atterrato nel campo dove stavamo giocando era un oggetto a forma di disco di circa tre metri e mezzo di diametro spaventati ma affascinati e curiosi abbiamo camminato verso di lui per dare un'occhiata migliore mentre ci siamo avvicinati abbiamo notato un altro oggetto brillante più grande che si librava nel cielo sopra la piccola nave come se osservasse lei e noi quando ci trovavamo a circa sette metri dall'oggetto il più grande veicolo aereo è scomparso e mentre cercavamo di raccogliere abbastanza coraggio per avvicinarci il disco sul terreno è iniziato a vibrare poi è decollato a una terrificante velocità in un lampo di luce accecante bellissimo questo racconto del primo incontro quando lui afferma ma io parevo proprio dice i miei compagni di gioco non sempre li vedevano i dischi volanti ma io parevo proprio percepire quando guardare in su quando era il momento di guardare in su ecco questo significa da questa piccola frase noi capiamo che già gli extraterrestri monitoravano sicuramente questi ragazzi e avevano già stabilito un contatto telepatico con il giovane piccolo bambino our manger questo è importante da capire perché i disegni degli extraterrestri i disegni di questi angeli di ieri extraterrestri di oggi sono disegni che si svolgono su cicli temporali anche lunghissimi che non solo comprendono un'intera vita un'intera esistenza ma comprendono più vite più esistenze perché loro hanno la tecnologia scientifico spirituale che gli consente di sapere e di di sapere chi eravamo nelle vite precedenti e di seguire uno spirito che si incarna e disincarna si incarna e disincarna si incarna e disincarna che passa da una vita all'altra come facciamo tutti ecco loro hanno la capacità tecnico scientifico spirituale di seguire il percorso di quello spirito di incarnazione disincarnazione reincarnazione e così via e quindi di procedere con una missione che non copre più soltanto l'arco di una sola esistenza ma è una missione di collaborazione con gli extraterrestri che va avanti da più vite con varie con metodologie magari differenti a seconda del tempo e del luogo in cui ci si incarna in cui si svolge la missione ma si tratta di un unico disegno questo è bellissimo ed è fondamentale da capire per quanto riguarda la nostra visione universale della realtà che dobbiamo acquisire questo nuovo paradigma come abbiamo detto dobbiamo capirle queste cose sono cose reali non sono racconti di fantascienza ecco il primo incontro la ragazza sulla roccia dopo queste esperienze iniziali Awar sente la necessità di trascorrere più tempo in solitudine in mezzo alla natura e come dargli torto e racconta ho iniziato ad uscire per conto mio in profondità nel bosco avevo il sentore che là avrei trovato la risposta ai flashback che sperimentavo alcuni impulsi molto forti mi attiravano sempre in una certa area del bosco una meravigliosa parte della foresta con un ruscello e piante quasi tropicali un giorno nel 1932 nel 1932 lui è nato nel 22 quindi aveva dieci anni laggiù seduta su una roccia vicino al ruscello c'era la donna più meravigliosa che i miei giovani occhi avessero mai contemplato la calda luce del sole catturava i riflessi dei suoi lunghi capelli dorati che le scendevano attorno al viso e alle spalle le curve del suo bellissimo corpo erano delicatamente contornate rivelate attraverso il materiale traslucido dei vestiti che mi ricordavano gli abiti degli sciatori mi immobilizzai e per un momento il mio respiro si è fermato non ero spaventato ma una travolgente meraviglia mi congelava sul posto lei ha voltato la testa nella mia direzione sebbene fossi molto giovane la sensazione che ricevevo era inconfondibile era una tremenda ondata di calore amore e attrazione fisica che emanava da lei verso di me ecco quindi addirittura la potenza energetica lo splendore spirituale di questi esseri extraterrestri così sublimemente evoluti è talmente forte questa energia questa potenza talmente intensa che riesce addirittura a sconvolgere gli interessi sessuali perché è l'attrazione fisica che lui ha provato gli interessi sessuali gli impulsi sessuali di un bambino di dieci anni quindi lui è rimasto sconvolto da questa figura e vedremo che poi nel tempo questo è capitato ancora da Wormanger e a molti altri contattisti in realtà perché noi siamo un po' primitivi da quel punto di vista della relazione con l'altro sesso siamo abbastanza primitivi e quindi di fronte a queste energie meravigliose a queste anche bellezze bellezze fisiche non è soltanto l'energia è proprio che sono belle queste donne e sono belli questi uomini extraterrestri belli di una bellezza veramente disarmante e sconvolgente perché è una bellezza che rasenta la perfezione angelica ecco di fronte a costoro noi abbiamo delle reazioni anche istintive che è difficile controllare improvvisamente tutte le mie ansie se ne erano andate e mi sono approcciato a lei come si farebbe con una vecchia amica o amata lei pareva irradiare e risplendere e mi chiedevo se ciò fosse dovuto all'insolita qualità del materiale che indossava che aveva una scintillante consistenza lucida non dissimile ma che sorpassava di molto dalla lucentezza del nylon gli abiti non avevano bottoni ganci o simili lei non portava trucco che sarebbe stato inutile per la delicata trasparenza della sua carnagione simile alla camelia con sfumature rosate i suoi occhi o palescenti dischi d'oro rivolgevano il loro affetto sorridente su di me con una tranquilla luminescenza poi lei ha pronunciato il mio nome ed io ho tremato di gioia nessuno mi aveva mai parlato come faceva lei mi parlava come se io fossi molto più vecchio Howard ho percorso una lunga strada per vederti Howard e per parlare con te io so da dove sei venuto e conosco il tuo scopo su questa terra io e la mia gente ti abbiamo osservato per molto tempo quando parlava della sua gente non potevo ancora comprendere che provenivano da un altro pianeta ogni movimento del suo corpo mentre si alzava e camminava e tendeva le mani verso me era una sinfonia di ritmo grazia e bellezza mi sembrava di essere circondato dal gran bagliore che emanava dalla sua presenza in qualche modo l'intera area attorno a noi aveva assunto un maggior tipo di splendore Howard stai tranquillo io so chi sei tu da molto molto tempo stiamo contattando i nostri questa è una frase molto importante che pronuncia questa ragazza poi la ragazza parla a Manger di concetti che sono fuori dalla comprensione razionale di un bambino gli parla di evoluzione di frequenza di vibrazione però aggiunge non è colpa tua Howard se ora non puoi comprendere tutto le mie parole si imprimeranno nella tua mente più avanti nel corso della tua vita comprenderai e continua il racconto di Howard Manger lei ha sorriso per la maggior parte del tempo mentre parlava e di tanto in tanto rideva perché rispondeva alle mie domande prima che io potessi porle pareva sapere tutto dei miei pensieri ma poi uno sguardo di tristezza è arrivato sul suo bellissimo volto lei ha parlato di un grande cambiamento guerre inutili tormento e distruzione mentre invecchi crescerai per conoscere il tuo scopo aiuterai altre persone a crescere per conoscere anch'essi i loro scopi questo sarebbe dipeso dall'evoluzione e da leggi universali ed io Howard sarei stato attratto da altre persone che hanno missioni simili alla mia ha detto che avrei subito molte prove che a volte sarei stato infelice a causa degli errori che avrei fatto dovuti ad una sbagliata formazione poi mi raccontò della vita e della gente su altri pianeti e della fratellanza fra gli uomini infine lei si è alzata e sapevo che stava per salutare ha teso la mano ed ha afferrato la mia era calda e morbida la sua mano ed io ero riluttante a lasciarla andare ho iniziato a piangere non ti preoccupare Howard mi potrai rivedere ma passeranno molti anni prima che tu possa ed io non sono così tanto saggia né meravigliosa come altri della mia gente che spesso ti visitano dove vivono ho chiesto perplesso e quasi petulante ah lontano ma li troverai verranno da te saprai dove andare e li incontrerai e se la tua mente è turbata ricorda loro saranno sempre vicini stando attenti a te guidandoti di nuovo ha riso ed io non ho potuto fare a meno di essere contagiato dal suo buon umore lei ha detto che dovevo andare prima io poi sarebbe andata via lei posso guardare indietro oh si Howard puoi guardare indietro e l'ho fatto dopo essermi allontanato lentamente lei era ancora seduta sulla roccia sorridente ed ha fatto un cenno mi sono voltato ed ho corso singhiozzante e i miei lamenti di un tipo felice di tristezza hanno riempito la foresta ecco cari amici ho voluto leggere quasi quasi per intero perché non ho letto proprio integrale tutto il testo ma quasi per intero quasi integralmente questo racconto del primo incontro avuto da Warmenger anche in seguito leggerò alcune descrizioni alcune cose ma più diciamo specifiche e forse anche meno poetiche che racconta e che scrive Warmenger nel suo libro dallo spazio esterno a voi mentre leggerò quasi sempre per intero i discorsi degli extraterrestri questo sì glielo dobbiamo ecco l'ho voluto ho voluto leggere per intero quasi appunto integralmente questo primo incontro il racconto di questo primo incontro che ha avuto Warmenger perché questo è l'incontro che ha cambiato tutta la sua vita da questo incontro sono iniziate le sue esperienze da questo incontro è iniziata la sua avventura le sue esperienze diciamo erano già iniziate prima ma si sono concretizzate a partire da questo incontro e la sua grande avventura di contattista e di relazione di amicizia con questi popoli del cosmo è iniziata in quel momento e tra l'altro le cose le considerazioni che ha scritto Menger in questo primo racconto e le parole stesse della ragazza della roccia la ragazza extraterrestre le ritroveremo saranno un perenne riverbero in tutta la vita di Menger è per questo che ho voluto leggerla per intero e adesso ascoltiamo dalla viva voce di Our Menger ascoltiamo come lui ci parla del primo incontro con questa ragazza della roccia tutto era cominciato quando ero ancora molto piccolo dovevo avere non più di dieci anni mi ero recato a fare un giro nei boschi come ero solito fare a quei tempi quando ad un tratto vidi una meravigliosa figura di donna seduta su una roccia ai piedi della quale scorriva un torno rimasi a bocca aperta era una giovane signora a me sconosciuta e pensai che potesse venire da una fattoria dei ritorni ma mi accorsi che quella donna non aveva affatto l'aspetto della contadina indossava una meravigliosa e morbida tunica aveva lunghi capelli biondi e splendidi occhi dai riflessi dorati sembrava quasi che quel giorno mi stesse proprio aspettando iniziavo a parlarmi in inglese avevo una voce meravigliosa ricordo che mi conti moltissimo d'altronde ero poco più di un bambino e da quella figura si irradiava qualcosa di veramente celestiale insomma ebbe l'impressione di aver incontrato un angelo la giovane donna sapeva tutto di me e mi raccontò gli eventi che sarebbero accaduti nella mia vita futura la figura quindi scomparve di un canto alla stregua di una visione ed io tornai a casa per settimane evitai di parlare con chiunque di quell'incontro persino con mio fratello con il quale ero solito a sessurarmi nei boschi un giorno poco tempo dopo eravamo insieme e vedemmo un disco volante da quel momento con il tempo diverse cose anticipate dalla signora del bosco presero ad avversi presero ad avverarsi eccoci qua grazie a queste esperienze affascinante ascoltare l'intervista di manager vero allora grazie a queste esperienze our manager diventa più consapevole ma anche più riservato più taciturno ad esempio a scuola le lezioni spesso contrastano con le rivelazioni che lui ha ricevuto dalla ragazza della roccia per questo motivo lui si ribella ma ovviamente per andare avanti deve fare buon viso a cattivo gioco e molti di noi ne sanno qualcosa di queste battaglie scolastiche e nonostante i voti siano comunque calati lui riesce infine a diplomarsi si diploma our manager si diploma ho trovato anche la fotografia vedete sopra in alto a sinistra la scuola di high bridge l'ho trovata lì dentro c'è andato our manager e allora nel 1941 quindi lui ormai ha 19 anni si è diplomato e tutto ha 19 anni nel 41 trova lavoro in un arsenale nel New Jersey del nord sempre e nel 1942 quindi all'età di 20 anni si arruola nell'esercito e viene mandato in una unità di carri armati nel sud-est ovviamente si arruola nell'esercito ti dovevi arruolare nel senso era il percorso militare poi nel 42 c'erano già movimenti guerreschi in giro per il mondo impegnato nelle manovre militari per 18 mesi 18 mesi un ragazzo di 20 anni via da casa per 18 mesi dal Texas alla Louisiana pian piano le terribili realtà della guerra fanno sfumare i ricordi della bella extraterrestre e i suoi discorsi d'amore e ovviamente passano in secondo piano questo qua ragazzi diventa un militare a tutti gli effetti è un militare con manovre di guerra quindi il massimo livello di attività militaresca vediamo ad esempio un incontro mancato questo è anche sintomatico nel 1942 quindi abbiamo detto lui ha 20 anni di età accampati in un poligono di tiro fuori da El Paso presso il fiume Rio Grande Awar capisce di essere osservato da presenze invisibili che lo proteggono lui dice io mi sentivo protetto da quella notte ricomincia a vedere sempre più frequentemente i dischi volanti nel cielo una notte viene convinto da due commilitoni a recarsi nella vicina città di Juarez per divertirsi in sostanza per divertirsi un po' possiamo immaginare insomma che tipo di divertimenti di ragazzi di 20 anni ma lui non è interessato a quel tipo di divertimenti e appena arrivati si separa dal gruppo poco dopo poco dopo un taxi accosta accanto a lui l'autista gli parla in spagnolo indicandogli l'uomo seduto sui sedili posteriori ho trovato pure la foto di Juarez di Juarez negli anni 40 allora vediamo che cosa succede vediamo un po' che cosa racconta Menger l'uomo aveva lunghi capelli biondi che ricadevano sulle spalle la pelle appariva abbronzata era più alto e più pesante forse vorrebbe dire più prestante del messicano medio mi ha parlato piacevolmente in inglese con un leggero accento messicano ho qualcosa da raccontarti vorresti entrare nel taxi Howard rifiuta l'invito e l'uomo dice va bene con tono gentile poi Menger dice riflettendoci mi domandavo se non avessi commesso un errore mi ricordavo i dischi e di nuovo molte delle cose che la ragazza mi aveva detto la ragazza della roccia questo avrebbe potuto essere qualcuno della nostra gente che lei aveva promesso mi avrebbe cercato non ho più rivisto quell'uomo in sostanza Menger qui l'ho fatta breve ma lui approfondisce un pochino nel testo si capisce che lui ha avuto paura di essere adescato in sostanza sapete un ragazzo diventa un giovane militare di vent'anni e probabilmente Menger era a conoscenza di questa possibilità di essere adescati da loschi figuri malintenzionati e quindi con degli approcci che insomma possiamo immaginare e quindi lui ha rifiutato di salire nel taxi con un extraterrestre per paura di essere adescato fa ridere ma fino a un certo punto è una metafora anche questa di come viviamo rispetto a loro e proseguiamo la nostra avventura siamo in California le rivelazioni di un militare extraterrestre nel 1942 quindi a sempre vent'anni Menger si trova a Camp Cook con l'esercito allertato per partire in guerra e racconta mentre camminavo sul terreno del campo ho sentito qualcuno chiamare il mio nome mi sono guardato attorno ma non ho visto nessuno di familiare ho pensato di essermi sbagliato mentre continuavo a camminare un uomo in uniforme mi si è avvicinato dalla direzione opposta e ho sentito nuovamente chiamare il mio nome lui era di media altezza muscoloso e ben costruito la voce sembrava arrivare dalla sua direzione però non era udibile più tardi avrei imparato che si trattava di un suono mentale proiettato una pugnalata di ricordi ha accelerato i miei processi mentali quando ho realizzato che questa era una comunicazione telepatica mi sono fermato su due piedi era questo il tipo d'uomo di cui aveva parlato la ragazza qualcuno da un altro pianeta questa comprensione improvvisa che una tale cosa era possibile mi ha stordito e per uno o due secondi sono stato anche spaventato sebbene fosse un'occasione che avevo a lungo desiderato ansiosamente poi lui mi ha salutato parlando in modo udibile pronunciando il mio nome e allungando la mano io sono rimasto lì a fissarlo lentamente ho alzato la mano e ho preso la sua sospetto che il primo uomo dello spazio non si sia fatto l'idea che la gente della terra abbia una stretta di mano ferma perché la mia era molto fiacca poi ha sorriso ha fatto una leggera pressione sulla mia mano e improvvisamente ho sentito il calore che irradiava e permeava tutto il mio corpo allora ho restituito la stretta di mano perché riconoscevo alcune sensazioni che avevo sperimentato molto tempo prima sulla roccia nel bosco con la ragazza extraterrestre appena quella scena è tornata a lampeggiare nella mia mente lui ha colto i miei pensieri sì Awar so del contatto che hai avuto con una dei nostri quando eri molto giovane e la rivedrai in futuro era un uomo di bell'aspetto anche se c'era qualcosa di decisamente inusuale in lui sembrava un ordinario militare la singolarità dell'uomo non era dovuta solo ai lineamenti finemente cesellati e alla luminosa quasi liquida qualità dei suoi occhi ma nella comunicazione che sentivo io potevo percepire che l'uomo era gentile saggio emotivamente e spiritualmente evoluto al di là di chiunque altro io avessi mai incontrato ma il grado mantenesse una sorta di riservatezza che lo distingueva da una persona qualsiasi in qualche modo emerse un lieve e naturale senso dell'umorismo tra noi so del tuo contatto a Juarez la persona del taxi era un uomo dello spazio gli abbiamo detto che dovrebbe tagliarsi i capelli io l'ho fatto sai è difficile anche per noi tenere il passo con voi gente del popolo e imparare come pensate esattamente ecco questa frase dell'extraterrestre chissà se l'ha detta per mettere a proprio agio our manager per fargli capire che per fargli intendere che c'è una reciprocità perché onestamente alla luce poi delle conoscenze odierne su chi sono realmente questi personaggi mi sembra un po' strano che abbia detto una cosa del genere cioè che è difficile per loro stare al passo con noi cioè questi qua se sono gli angeli di ieri gli extraterrestri di oggi ci conoscono da sempre quindi non solo sanno tutto di noi ma conoscono noi stessi meglio di noi stessi e sanno anche prevedere abbastanza bene con una con un margine di errore veramente minimo sanno prevedere anche le nostre intenzioni e quindi anche i nostri modelli culturali è tutto quindi magari questa frase è stata detta dall'extraterrestre per mettere our manger a proprio agio e continua e continua manger a raccontare poi sono rimasto a bocca aperta dallo stupore mentre lui ha raccontato come un dato di fatto cose che non avevo mai sognato potessero accadere e l'extraterrestre racconta molta gente messicana è a conoscenza dei dischi volanti ed è stata contattata dagli occupanti delle navi molto tempo prima dei conquistadores abbiamo preso contatto con gli aztechi abbiamo aiutato queste persone in molti modi ed è un peccato che i conquistadores siano venuti in guerra invece che in buona volontà e amicizia poiché vi erano molte cose che gli aztechi avrebbero potuto insegnargli invece hanno nascosto questi segreti che sono andati distrutti con la civilizzazione io tra parentesi direi la cosiddetta civilizzazione alcuni segreti avevano a che fare con l'utilizzo del suono e della luce per produrre energia e far funzionare i macchinari i dischi d'oro che sono stati inviati alla regina di Spagna contenevano tali segreti ma gli spagnoli erano solo interessati a fondere l'oro i dischi erano degli strumenti sonici usati per la levitazione quando venivano rivolti sulle frequenze degli individui che li utilizzavano altre civiltà hanno ricevuto l'uso dei meravigliosi strumenti che sono stati usati per intenti pacifici ma nel caso degli aztechi i segreti sono stati distrutti o dimenticati quindi accade ancora e ancora Howard si potrebbe pensare che ci avremmo rinunciato non lo faremo l'uomo di Juarez era un visitatore di un altro pianeta che è venuto a contattare i resti della sua stessa gente ancora vivente sulla terra discendenti di un'antica razza che originariamente era arrivata qui dal proprio pianeta qui probabilmente questo extraterrestre si riferisce alla cosiddetta razza rossa pleiadiana che della quale insomma abbiamo parlato in altri contesti in altre circostanze come ad esempio durante la conferenza che è pubblica la potete trovare nel web nel nostro canale youtube la conferenza su Atlantide abbiamo parlato delle quattro razze madri e questo extraterrestre continua e dice la tua squadra militare partirà presto per le Hawaii tu sarai messo in servizio distaccato e avrai più tempo libero per alcuni compiti che devi svolgere avrai un contatto alle Hawaii e riceverai ulteriori istruzioni anche un'altra persona del vostro campo è stata contattata un ufficiale dell'esercito ma tu e lui non vi incontrerete ecco questa è una frase molto significativa diciamo manger non la commenta più di tanto ma è una frase molto significativa significa che gli extraterrestri portano avanti vari contatti con vari contattisti quindi diverse tipologie di missione con diverse metodologie tra contattisti che addirittura vivono nello stesso campo nelle stesse camerate magari però l'uno non sa chi è l'altro non si conoscono tra loro si conoscono ma non sanno di essere contattati a vicenda perché gli extraterrestri si raccomandano dicendogli non dire a nessuno che siamo in contatto con te non parlare del nostro contatto quindi che progetti hanno hanno progetti che evidentemente esulano dalla nostra capacità di comprensione altrimenti ce li spiegherebbero invece loro ci spiegano il minimo indispensabile quello che noi possiamo capire ce lo spiegano bene quello che noi possiamo capire ma noi non possiamo capire tutto come fai a capire i progetti degli angeli questi sono gli angeli non ce lo dimentichiamo mai angeli di ieri extraterrestri di oggi e di sempre quindi questi esseri portano avanti delle missioni sono in missione per conto di Dio come dicevano i Blues Brothers soltanto che loro lo fanno veramente gli extraterrestri sono veramente in missione per conto di Dio per conto di quella intelligenza che governa la creazione e noi non siamo noi terrestri del pianeta Terra non siamo in grado di capire tutti i disegni di questa intelligenza creativa divina e quindi di conseguenza non siamo in grado di comprendere i programmi degli extraterrestri almeno non in toto e quindi loro portano avanti questi diversi programmi questo accade anche oggi quindi deve farci capire ancora una volta ancora di più deve farci capire che noi umanità della Terra siamo inseriti in un contesto universale un contesto sociale evolutivo universale dobbiamo mettercelo in testa che la nostra evoluzione sociale ma anche spirituale ma proprio anche l'evoluzione gli eventi della storia umana sono coordinati da queste potenze celesti che chiamiamo extraterrestri quindi quello che accade la la nascita la caduta degli imperi o delle dittature o dei governi dei grandi governi della Terra le grandi superpotenze le azioni militari è tutto supervisionato e in un certo senso orientato dalle volontà di questi extraterrestri che portano avanti e mettono in pratica applicano i disegni dell'intelligenza divina non ce lo dimentichiamo mai non si muove foglia che Dio non voglia e questi extraterrestri sono la longa ma sono i facenti funzione di Dio questo ricordiamocelo sempre e Menger conclude questo racconto dicendo mentre ci salutavamo pensavo che queste persone di altri pianeti possono conoscere il passato il presente e il futuro ebbene sì lui lui l'essere extraterrestre aveva percepito i miei pensieri aveva sorriso terminando la conversazione con un'altra stretta di mano e poi se n'era andato poche settimane dopo siamo stati spediti alle Hawaii quindi vedete anche la spedizione di una squadra militare all'Hawai è stata prevista da questo extraterrestre ma perché è stata prevista perché questo è il mio punto di vista non è che ha guardato nel futuro con la sfera di cristallo l'ha prevista perché l'ha orientata questa scelta di mandare la squadra di Menger alle Hawaii cioè questi esseri extraterrestri hanno potere decisionale o di influenzare chi ha potere decisionale anche a livello politico e militare nei termini e nella forma e nelle condizioni e nei limiti in cui questo viene loro concesso da parte della divina intelligenza perché non è che possono fare il bello e il cattivo tempo senza il permesso degli esseri divini superiori quindi però hanno questo potere quindi questo gli dice la tua squadra andrà alle Hawaii e la squadra militare è andata alle Hawaii non è che non c'è andata c'è andata e vediamo che cosa è successo alle Hawaii un'incantevole marziana alle Hawaii come predetto dal militare extraterrestre in California manger viene mandato alle Hawaii esonerato dall'equipaggio dei carri armati e trasferito al comando di battaglione dove lavorerà come disegnatore tecnico per un servizio di staccato della marina quindi si avvera tutto punto per punto quello che l'extraterrestre in California gli aveva predetto tutto è stato trasferito alla Hawaii è stato esonerato dall'equipaggio dei carri armati è stato trasferito quindi in una situazione in un contesto lavorativo militaresco in un contesto lavorativo militare dove comunque lavorava di meno rispetto all'equipaggio dei carri armati era più comodo tra virgolette disegnatore tecnico e poi per un servizio di staccato della marina quindi è proprio un'altra situazione cambia la sua situazione militare come è stato previsto dall'essere che ha incontrato in California una sera seguendo un impulso interiore che Manger aveva questi impulsi interiori che cosa fa Manger il nostro giovane militare prende una jeep dell'esercito e si dirige quindi la ruba tra virgolette e si la prende in prestito via diciamo e si dirige verso una zona ricca di caverne distante poche miglia ho trovato anche la jeep non è quella proprio che ha usato lui ma è identica e qui Manger ricomincia a raccontarci un'altra delle sue avventure pareva che io fossi guidato ho parcheggiato e ho camminato attraverso il fitto sottobosco verso le grotte sapevo che avrei incontrato una delle persone dello spazio improvvisamente mi sono fermato perché ho visto una figura davanti a me una silhouette femminile mentre mi avvicinavo ho scoperto che era una donna bellissima con lunghi capelli neri e occhi scuri era vestita con una sorta di abito fluente dai toni pastello sotto una specie di tunica fluttuante traslucida e rosata indossava degli aderenti pantaloni tipo pigiama la tunica ondeggiava armoniosamente sui contorni formosi del suo corpo dai tratti finemente modellati mi sono fermato sul posto fissandola con un'ammirazione incontrollata finché lei ha allungato la mano chiamando il mio nome questa ragazza come quella della roccia trasmetteva un'espressione di amore spirituale e di profonda compassione e comprensione in sua presenza ero pieno di umiltà e soggezione ma non senza una forte attrazione fisica che è impossibile placare in presenza di queste donne lei ha immediatamente avvertito quella parte dei miei sentimenti e anche il mio imbarazzo nel sapere che lei li aveva avvertiti li aveva percepiti oh Howard mi ha rimproverato è solo una cosa naturale anch'io la provo fluisce da te a me come da me verso di te molti uomini nelle stesse circostanze non reagirebbero nella stessa maniera da gentiluomo come hai fatto tu questa è una delle ragioni per cui sei stato scelto tra molte migliaia per il contatto con la mia gente e l'illuminazione che di conseguenza riceverai mentre riflettevo su come lei si sarebbe comportata di fronte alla reazione scomposta di un terrestre ha letto di nuovo i miei pensieri o puoi starne certo se tu non fossi un gentiluomo io avrei la difesa adatta gli ego di così tante persone sono più grandi della loro umiltà ma il tuo non lo è sono a conoscenza della piccola ragazza portoghese e di ciò che hai fatto era una cosa meravigliosa da fare e ti ha mostrato come il vero uomo che sei la ragazza in questo caso la ragazza extraterrestre che sta parlando con our manager alludeva ad una giovane portoghese che manager aveva difeso dalle eccessive attenzioni dei commilitoni in sostanza questi qua la stavano molestando i commilitoni e manager l'ha presa l'ha sottratta dalle mani di quei volgari e l'ha accompagnata a casa pensate l'ha accompagnata a casa ed è stato ovviamente è stato accolto in maniera benevola dai genitori della ragazza è rimasto a pasteggiare con loro quindi e questo non è sfuggito agli extraterrestri questo comportamento e la ragazza a proposito di questo la ragazza extraterrestre continua e gli dice in altre parole penso che tu stia passando Howard non è così che dite a scuola sei stato osservato da vicino come ora comprendi ti sarà data fiducia e avrai altri contatti quindi Howard manager è sotto osservazione sotto esame diciamo è stato ed è sotto esame fino a questo momento per capire come lui reagisce in determinate situazioni e la ragazza extraterrestre gli dice stai passando stai superando l'esame stai superando la prova e quindi avrai altri contatti ti viene accordata fiducia da parte nostra e continua lei il vostro gruppo andrà ad Okinawa nei primi giorni dell'aprile 1945 so come ti senti ed è molto ammirevole non puoi pensare di uccidere un'anima vivente ma ancora non puoi capire il motivo per cui sei già di aiuto nello svolgere tale ruolo sarai contattato ad Okinawa e ti verrà detto molto di più a questo proposito quindi la ragazza e qui siamo ancora nel 42 se non erro la ragazza gli annuncia che nel 45 nel 45 si sarebbero trasferiti sarebbero stati spediti sull'isola di Okinawa pensai dice Menger che è una guerra che in una guerra avrei potuto essere ucciso oh no risponde lei no non preoccuparti ma fai attenzione avrai alcuni scampati pericoli ecco poi Menger parla a lungo con questa ragazza io amici non posso leggervi tutto perché sennò diventa noioso Menger parla a lungo con questa ragazza che dice di venire da Marte ecco perché l'incontro con la marziana alle Hawaii si intitolava questo capitolo lei gli dice di venire da Marte e dice a Menger anche che potranno incontrarsi di nuovo ma lo informa che lui Menger dovrà riconoscerla dai propri sentimenti cioè da quello che proverà dentro ecco questo è un aspetto importante del contatto con questi cosiddetti extraterrestri perché è importante perché da questa frase possiamo dedurre che la ragazza in questione è in grado di manifestarsi con diverse fisionomie cioè è mutante può mutare forma e può mutare fisionomia e gli ha detto in sostanza gli ha detto guarda che ci rincontreremo ma tu mi riconoscerai dai tuoi sentimenti quindi non dall'aspetto esteriore ecco infine dice si salutano stringendosi la mano e Menger torna alla base militare dopo il tramonto comunque soffermandosi un attimino su questo concetto importante del contatto con questi esseri noi dobbiamo capire che loro sono in grado di manifestarsi in qualsiasi forma loro desiderano mostrarsi a seconda della nostra capacità di recezione a seconda della nostra anche capacità di sopportare la realtà perché io immagino che la vera forma fisica di questi esseri sia ben diversa anche da queste belle ragazze da questi uomini ai tanti la vera forma fisica di questi esseri è una forma fisica quadridimensionale o addirittura pentadimensionale quindi di quinta dimensione e si tratta di forme fisiche diverse dalle nostre molto molto esili cioè fisicamente sono differenti da noi hanno un testone enorme sono macrocefali una testa enorme perché il lavoro della loro ghiandola pineale è diverso dal nostro è molto più potente hanno il cosiddetto terzo occhio aperto hanno una diversa fisionomia le stesse funzioni fisiologiche sono ridotte ai minimi termini quindi non hanno un apparato intestinale come il nostro non hanno un apparato digerente o un sistema nervoso simpatico e parasimpatico distribuito come il nostro sono diversi da noi fisicamente anche il sistema riproduttivo probabilmente diverso ora non so se quelli di quarta dimensione sono così tanto diversi da noi ma comunque sono diversi da noi ma sicuramente gli esseri di quinta dimensione sono diversissimi da noi sono quegli esseri che vengono chiamati nel diciamo nei messaggi di Eugenio Siragusa di Giorgio Bon Giovanni vengono chiamati i mutanti solari gli astrali gli Elohim ecco sono loro sono diversi da noi sono con gli occhi molto molto allungati sono i maestri dal dolcissimo sguardo ma sono diversi da noi sono molto diversi da noi fisicamente e quindi sia per confondersi nella popolazione terrestre normalmente sia per mostrarsi in maniera tale da non spaventare il contattato in questione si manifestano nella forma umana e quando questi esseri si manifestano nella forma umana ovviamente sono perfetti si manifestano nella perfezione della forma umana perché perché traducono nella forma umana la loro perfezione spirituale il loro livello evolutivo spirituale quindi la loro estetica la loro fisionomia il loro corpo fisico esprime il loro livello evolutivo spirituale riverbera riflette il loro livello evolutivo spirituale quindi sono bellissimi sono angelici sono angelici sono gli angeli ok questo era importante da capire e veniamo la ragazza gli ha parlato del periodo scampato ecco qua facciamo un salto temporale arriviamo proprio in Giappone isola di Okinawa nel 1945 come predetto dalla ragazza extraterrestre questo è il primo pericolo scampato l'infermiera extraterrestre è ovviamente un'altra esperienza di manger siamo appunto in Giappone sull'isola di Okinawa nel 1945 vedete la distanza prima dalle coste occidentali americane degli Stati Uniti d'America sono andati sono stati trasferiti alle Hawaii e adesso dalle Hawaii all'isola di Okinawa è la prima settimana di aprile del 1945 e Our Manger atterra con l'esercito americano sull'isola di Okinawa fra gli orrori della guerra dopo lo sbarco sulle sponde nemiche i militari subiscono un pesante attacco da parte di un aereo degli Stati Uniti che però era pilotato da un soldato giapponese che era riuscito ad impadronirsene e le perdite sono ingentissime ma Our Manger è proprio il caso di dire grazie al cielo è salvo quindi muore un sacco di gente un sacco di compagni muoiono i giapponesi mitraiano costantemente le postazioni americane un giorno una granata esplode vicino a Manger e una scheggia penetra nel suo occhio destro viene una forte infezione che in poco tempo si propaga anche all'occhio sinistro e lui resta pensate resta cieco Our Manger è cieco durante la prima settimana in ospedale racconta Manger una signora cortese che parlava in modo dolce è venuta al mio letto e ha iniziato a parlare con me quando le ho chiesto se fosse un'infermiera non mi ha risposto direttamente mi ha detto che non era propriamente assegnata alla mia sezione tu sei una delle persone che sono venuta a vedere ha risposto l'infermiera mi ha chiamato per nome rassicurandomi che la vista si sarebbe ristabilita e lentamente così è stato lei era un'attraente donna con capelli castani ondulati occhi scuri e fini denti bianchi vestiva l'uniforme delle infermiere all'approssimarsi delle mie dimissioni dall'ospedale mi disse presto incontrerai una persona molto interessante dopo quelle parole non l'ho più rivista ed ecco che quindi anche questa infermiera era una ragazza extraterrestre e andiamo al secondo pericolo scampato di our manager e qui è più tosta ancora più tosta la situazione l'incontro con un uomo dello spazio ma vediamo prima che cosa succede due settimane dopo il rilascio dall'ospedale quindi 15 giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale our sente di nuovo un impulso interiore prende una jeep e guida fino al limite nord dell'isola di okinawa d'improvviso però l'impulso interiore svanisce e lui è costretto ad accamparsi per non essere visto dai nemici ragazzi siamo in guerra durante la notte viene aggredito da tre grossi soldati giapponesi e solo miracolosamente riesce a difendersi e a neutralizzarli e dirà manager ho capito che avevo ricevuto un grande aiuto dagli extraterrestri ovviamente quindi che cosa significa ragazzi qui c'è scritto e lui dice che è riuscito miracolosamente a difendersi e a neutralizzarli neutralizzarli io penso che lui li abbia stecchiti cioè li abbia fatti fuori non penso che li abbia legati uno ad uno mani e piedi e poi abbia chiamato i rinforzi cioè no lui probabilmente li ha uccisi a questi tre giapponesi quindi pensate la missione di un contattista che è in missione per conto di esseri pacifici per antonomasia può svolgersi con una metodologia che prevede anche l'uccisione di altri esseri umani questo è incredibile ma è così è andata così io non penso che gli abbia cantato una canzone con il flauto magico e li abbia addormentati cioè li ha neutralizzati vuol dire che li ha uccisi a questi tre poveri giapponesi la notte successiva mentre tutti dormono manger sente chiamare il proprio nome e si sveglia di soprassalto è una chiamata telepatica di nuovo prende la jeep ormai prendeva jeep così come se piovesse e guida fino al luogo della notte precedente nei pressi di una grotta ecco che un uomo alto e ben formato di aspetto caucasico è vicino all'entrata della caverna vestito in abiti militari e disarmato manger e quest'uomo si salutano e iniziano a parlare l'uomo dice a manger di essere al corrente di ciò che era accaduto la sera prima con i giapponesi e dice quest'uomo extraterrestre conosco più cose che hai fatto e che farai di quante tu ne abbia realizzate sappiamo più noi circa le vostre persone sulla terra di quanto loro sappiano di se stesse vedi fratello mio questa esperienza era necessaria se tu fossi stato prima a conoscenza di questi contatti e del messaggio che portiamo non saresti entrato nell'esercito se tu fossi stato cosciente della completa inutilità di uccidere non saresti entrato nell'esercito e probabilmente saresti stato imprigionato come obiettore di coscienza e questo non sarebbe stato un buon antefatto per il lavoro che devi ancora fare la gente avrebbe considerato questo dato come non patriottico e non ti avrebbe ascoltato i contatti sono scelti sulla base di come l'individuo è nel profondo in realtà Howard la morte non c'è solo il corpo fisico il guscio muore e anche quello non viene realmente distrutto l'anima vive eternamente imparando dai suoi errori sempre progredendo il buono che viene fatto viene accreditato su quell'anima gli errori sono dimenticati Howard dopo aver ascoltato questa spiegazione domanda a quell'uomo quale sia il suo nome ma l'uomo risponde i nomi non sono molto importanti e poi e poi quest'uomo extraterrestre predice il futuro dice gli stati uniti vinceranno la guerra leggiamo quello che dice predice il futuro anche qui probabilmente perché orientano il corso degli eventi oltre che sanno anche prevederli ovviamente i giapponesi si arrenderanno a breve perché sono sul punto di essere distrutti fino alla resa da un'energia che scioccherà il mondo sia in stupore che in sensibilità l'utilizzo di questa energia può condurre alla distruzione dell'intero pianeta faccio una piccola parentesi dicendo che questo è un messaggio contrario dunque all'utilizzo dell'energia nucleare per fini bellici è un messaggio che è stato più e più volte reiterato a tutti i contattisti autentici nessuno escluso Eugenio Siragusa Giorgio Bongiovanni anche Billy Mayer tutti i contattisti autentici hanno ricevuto questi messaggi contrari del tutto contrari all'utilizzo bellico dell'arma nucleare dell'energia nucleare che scinde l'unità atomica che è l'unità creativa di cui l'intelligenza non è creante si serve per costruire la realtà la creazione quindi ecco volevo fare questa parentesi perché è bene ricordarlo l'arma atomica e l'energia atomica sono nefaste l'utilizzo ai fini bellici dell'energia atomica è nefasto in ogni sua prerogativa non ha niente di positivo niente ed è capace l'energia distruttiva scatenata dall'esplosione nucleare anche solo dagli esperimenti non soltanto dalle armi esplose in guerra solo per fare sperimentazioni nucleari hanno fatto già esplodere tra Russia e Stati Uniti d'America Francia India addirittura e altre potenze mondiali hanno già fatto esplodere decine di migliaia di testate nucleari quindi per certi versi la guerra nucleare è già stata combattuta se vogliamo a livello di prove di forza e poi fanno le prove così nei propri paesi è un suicidio perché le prove le sperimentazioni delle armi nei propri paesi è come se tu prendi una pistola e dici vediamo se mi sparo su un piede che cosa succede poi vediamo se mi sparo in un braccio che cosa succede poi fino a che arrivi alla testa e la sperimentazione finisce là ecco questi extraterrestri non vogliono che noi arriviamo a spararci in testa e quindi ci avvertono dicendoci che la sperimentazione nucleare a fini bellici e l'utilizzo dell'energia nucleare per scopi militari appunto è nefasto in ogni suo aspetto assolutamente e le ripercussioni stavo dicendo le ripercussioni che queste energie distruttive hanno sono ripercussioni che l'essere umano dovrà scontare per migliaia di anni questo è terribile per non parlare per non parlare delle scorie che si accumulano per il semplice fatto di produrre energia attraverso il metodo nucleare di diffusione di fissione e sono scorie che vengono chiuse in appositi contenitori vengono chiamati barili in questi appositi contenitori che fine fanno questi contenitori e vengono poi seppelliti vengono messi nelle caverne ci sono prove certe che sono stati anche smaltiti all'interno degli oceani e dei mari addirittura è molto probabile se non certo in base anche a delle dichiarazioni di alcuni pentiti di mafia che alcune tante scorie radioattive oltre a rifiuti ospedalieri e a schifezze di ogni genere tipo inquinante terribilmente inquinante pericolosamente inquinanti letalmente inquinanti siano stati affondati queste scorie siano state affondate nel mar mediterraneo e nei nostri mari non solo mediterraneo anche tirreno quindi perché come fanno le mettono a bordo mettono tutte queste scorie insieme a bordo di grandi traghetti o grandi navi e poi affondano le navi con delle cariche delle mine affondano le navi con tutto il loro contenuto che è queste navi strapiene di rifiuti di ogni genere tipo tra cui anche probabilmente scorie radioattive quindi è triste tutto questo è terribilmente triste terribilmente triste e gli extraterrestri ci avvertono da molti decenni di questo e continuiamo a leggere il discorso dell'extraterrestre a Menger ricorda che l'assassinio di un uomo solo o la distruzione di massa è una e la stessa il male non è misurato dalla grandezza del crimine l'intento malvagio che va contro le leggi del nostro padre infinito volgerà le stesse leggi contro la vostra gente l'uomo stesso crea le proprie pene e poi in colpa dio per le proprie afflizioni altri uomini su questa isola sono stati contattati da noi ma non vi conoscete l'un l'altro e ciascuno mantiene il segreto sii calmo e costante tu stesso Howard abbiamo impiegato molto tempo per condizionarti e prepararti per il tuo futuro lavoro stiamo contattando persone in tutto il mondo qui dice stanno contattando stiamo contattando persone in tutto il mondo questi sono siamo nel 1945 esattamente nello stesso periodo o si più o meno nello stesso periodo viene contattato è stato contattato George Adamski siamo nel 47 bene due anni siamo nel 45 bene due anni dopo nel 1947 c'è il famoso UFO crash di di Roswell e guarda caso quella cittadina era proprio la cittadina dove erano stanziati i bombardieri nucleari non è poco come simbolo questo loro ci danno queste indicazioni gli extraterrestri usano questo linguaggio simbolico con noi ci spiegano le cose in questo modo in maniera intuitiva poi nel 52 quindi pochi anni dopo Eugenio Siragusa inizia ad avere le sue prime esperienze insomma loro gli extraterrestri si sono dati da fare poi da fare tantissimo poi in quel periodo c'era anche forse un po' dopo George Hunt Williamson George Van Tassel vari personaggi che sono stati contattati dagli extraterrestri in quel periodo per far fiorire questa nuova coscienza che era possibile realizzare in questo pianeta non per caso a distanza finita la guerra diciamo a distanza di circa 20 anni dalla fine della guerra anche un po' meno sono iniziati i famosi anni gli anni degli hippie gli anni 60 gli anni 70 nei quali adesso al di là dell'aspetto folcloristico e della della situazione e degli eccessi che poi ci sono stati indubbiamente è palese come l'intervento di queste forti energie di queste intelligenze superiori di queste forti energie positive sia penetrato nella società umana perché c'era un'area di risveglio generalizzata guardate soltanto a quello che è stato prodotto a livello artistico a livello musicale in quegli anni è uno stato di convolgimento da cosa è di peso non è di peso solo dal fatto che la gente si è ringalluzzita dopo la fine della guerra no non è solo questo altre volte l'umanità ha passato guerre e fine di guerre e nuove rinascite ma nel caso degli anni 70 c'era l'intervento diretto voi pensate che negli anni 70 l'intervento diretto degli extraterrestri positivo pensate che negli anni 70 era il periodo di massima attività del grande Eugenio Siragusa il più grande contattista della storia mondiale sicuramente lo è e lo sarà quindi era un periodo in cui c'erano grandi possibilità poi purtroppo queste possibilità di cambiamento di trasformazione tutti questi messaggi che sono stati divulgati in tutto il mondo in tutte le lingue del mondo a tutti i potenti della terra a tutti gli scienziati della terra a tutti gli esperti e i responsabili dell'economia mondiale della politica della cultura della medicina a tutti sono stati divulgati i messaggi extraterrestri in tutte le lingue del mondo in quegli anni c'era ancora curiosità non c'era il ridicolo come adesso non erano ridicolizzate come oggi queste cose oggi non sono più ridicolizzate oggi sono temute perché si sa che sono vere e sono temute quando non sono capite ovviamente e sono temute dal potere a buona ragione di temerle il potere ma fino a pochi anni fa fino a qualche anno fa erano ridicolizzate ecco negli anni 60 e 70 queste cose non erano ridicolizzate quindi i messaggi extraterrestri anche se c'era un certo approccio forse sì un po' per certi versi giocoso in materia però venivano prese molto sul serio dalle persone che sapevano il fatto loro dalla gente di cultura e così via venivano prese molto sul serio quindi i messaggi trasmessi da un eugenio Siragusa che messaggi tradotti in varie lingue del mondo e mandati gratuitamente a tutti i massimi esperti di politica di medicina come abbiamo detto prima di finanza e tutti i militari e così via questi messaggi sono stati letti questi messaggi sono arrivati alla attenzione dei capi politici militari economici e così via lo dimostra il fatto che ad esempio un capo francese De Gaulle rispose a Eugenio Siragusa lo dimostra il fatto che Papa Paolo VI rispose a Eugenio Siragusa con la lettera diceva l'intelligenza di Dio che supera i nostri cuori insomma il Papa Paolo VI dava una benedizione natalizia al venerabile centro studi fratellanza cosmica scritto con il timbro papale al venerabile centro studi fratellanza cosmica la pace di Dio che supera tutti i sensi custodisca i vostri cuori e le intelligenze vostre in Gesù Cristo nostro Signore Papa Paolo VI e quelli erano gli anni sessanta lo dimostra il fatto che sono arrivate queste informazioni questi messaggi anche agli altissimi vertici mondiali lo dimostra il fatto anche che il presidente degli Stati Uniti d'America Dwight Eisenhower di cui la pronipote ha confermato i contatti extraterrestri Eisenhower rispose a Eugenio Siragusa con una lettera in cui si scambiavano opinioni sul futuro dei giovani e Eisenhower aveva invitato Eugenio Siragusa ad andare in America per essere suo consigliere per essere suo amico e assisterlo perché Eisenhower sapeva che Eugenio era un vero contattato altrimenti che il presidente degli Stati Uniti d'America risponde ad una lettera di uno che lavora al Dazio di Catania scordatevelo si vede che i contatti extraterrestri che aveva Eisenhower che sono stati confermati dalla sua pronipote sono contatti che gli avevano detto guarda che quel siciliano è amico nostro parla per conto nostro quindi rispondigli ascoltalo ecco questo è successo queste lettere quindi sono arrivate perché non sono stati ascoltati questi insegnamenti questi inviti al ravvedimento questi ammonimenti anche e queste offerte di pace di prosperità ed anche di offerte di tecnologia qualora noi avessimo smesso di distruggerci l'uno contro l'altro ecco perché non sono stati ascoltati questi insegnamenti extraterrestri perché 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 c'è stata una volontà avversa chiamatela satanica chiamatela luciferica chiamatela diabolica chiamatela come cavolo volete ma è una forza contraria al bene che ha ispirato i potenti della terra e tutti coloro che avevano la possibilità di trasmettere al grande pubblico questi messaggi queste informazioni e hanno accecato i giovani li hanno fermati in quegli anni di grande rinascimento li hanno fermati con le droghe li hanno fermati con la musica perversa li hanno fermati con la pornografia che è nata in quegli anni con perversioni di tutti i generi e tipi li hanno fermati con un approccio culturale di un dissestamento della delle strutture diciamo della cultura internazionale voluto hanno minato hanno minato fin dalle fondamenta la cultura internazionale hanno dato tantissimo spazio e oggi lo vediamo con delle derive allucinanti dove vediamo manifestazioni sataniche e dei sabba e dei rituali semi orgiastici o rappresentazioni orgiastiche di tipo satanista durante durante l'inaugurazione di un traforo di una montagna durante il festival di sanremo o durante ecco oggi siamo alla deriva e quegli anni in quegli anni che le forze avverse hanno cominciato a dare spazio a queste realtà da dove oggi una una marina abramovic viene considerata da tutti gli artistoidi sinistroidi qualcuno mi sgriderà gli artistoidi sinistroidi considerano una marina abramovic come una grande artista ma quelli là che grande artista che grande artista quando la stragrande maggioranza delle sue opere quelle quelle note io non sono un profondo conoscitore ma ho visto ho cercato ho conosciuto qualcosa la stragrande maggioranza delle sue opere quelle note non sono nient'altro che opere simboliche di stampo satanista non ha inventato niente in grande innovatrice ma di che quelle cose là si conoscono dall'alba dei tempi sono conosciutissimi in ambito esoterico sapienziale soprattutto in ambito esoterico negativo satanico satanista sono ben conosciute quelle simbologie che lei utilizza per le sue forme di cosiddetta arte ma che arte è se non porta il bene dell'uomo così come la scienza che scienza è quando non ha coscienza di cosa è l'uomo e quando non porta il bene dell'uomo e forse si può chiamare forse scienza la scienza che distrugge l'unità atomica creativa io non la chiamo scienza la chiamo in un'altra maniera che forse adesso è meglio non dire ecco quindi in quegli anni le forze avverse hanno messo in campo tutti i loro strumenti che oggi hanno visto e vedono il loro trionfo veramente hanno messo in campo tutti i loro strumenti negativi per fermare il grande rinascimento che stava accadendo ma ovviamente non possiamo dare la colpa a qualcuno la colpa è sempre nostra cioè del popolo è il popolo che deve scegliere da che parte stare è il popolo che decide se dar retta alle sirene o se invece farsi legare all'albero della nave e farsi turare le orecchie mentre le sirene della mondana nefandezza cantano le loro lugubri canzoni affascinanti è l'uomo del popolo siamo noi il popolo che deve dire questo lo faccio perché è bene questo lo rifiuto perché è male invece oggi ci hanno portato al relativismo assoluto sentite che gioco di parole relativismo assoluto il relativismo cioè niente è bene niente è male se ognuno ha la sua verità ma che ognuno ha la sua verità ma che ognuno ha la sua verità allora la verità non esiste no la verità esiste è come se esiste e la verità è una e assoluta casomai sono molteplici forse addirittura infiniti i punti di vista le prospettive le lenti con le quali noi guardiamo la verità una ma la verità è una e assoluta per definizione altrimenti non sarebbe verità sarebbe così una ideologia ecco oggi abbiamo le ideologie al posto della verità ma nessuna ideologia può competere con la verità noi dobbiamo metterci in sintonia con la verità e abbiamo la enorme fortuna di avere questi esseri cosmici questi maestri universali che ci visitano e ci offrono insegnamenti di verità quindi noi possiamo abbiamo l'enorme opportunità di mettere da parte le nostre velleità ideologiche e il modo in cui siamo stati cresciuti poi le ideologie dipendono da tanti fattori da cosa ci piace cosa non ci piace ma questo mi risuona ma quest'altro non mi risuona ma se tu sei cresciuto in una società malata ciò che ti risuona probabilmente è malato quindi bisogna riformare il nostro pensiero e i nostri concetti in base agli insegnamenti di verità trasmessi da popoli che non sono cresciuti in civiltà malate come la nostra ma da popoli che sono civiltà assolute civiltà redente civiltà che non cadono più che non involvono più ok queste civiltà ci stanno portando la grande conoscenza della verità del tempo di tutti i tempi e le grandi conoscenze scientifiche o spirituali che possono renderci liberi dall'ignoranza e da tutti i problemi che affliggono l'umana esistenza questi insegnamenti ci vengono offerti dai maestri universali tramite i loro ambasciatori terreni che noi chiamiamo i contattisti ecco scopriamo quali sono quelli autentici contattisti e cerchiamo di mettere in pratica questi insegnamenti perché se ancora siamo vivi e respiriamo vuol dire che non è troppo tardi per salvare l'intera umanità sì molto probabilmente è troppo tardi ma per salvare una certa qualità di spiriti viventi su questa terra quindi una certa parte di umanità non è troppo tardi perché c'è una genetica da preservare una genetica che gli extraterrestri chiamano gna è una genetica cosmica che è la genetica destinata ad ereditare la nuova società che sorgerà dopo la distruzione purtroppo di questa società in seguito alla grande rivoluzione che stiamo vivendo e che presto vedrà il suo culmine ecco tutto questo poteva essere evitato in termini negativi poteva essere evitato e vissuto in maniera differente se in quegli anni gli anni di cui stiamo parlando in questo seminario di Menger e negli anni appena seguenti se in quegli anni fossero stati accettati i messaggi extraterrestri se fossero stati accolti se quando i grandi potenti leggevano questi messaggi dicevano ah ok però facciamolo perché se lo facciamo riceviamo assistenza da questi personaggi spaziali riceviamo anche tecnologie eccetera ci sono stati anche dei patti inizialmente dove gli extraterrestri hanno anche concesso un po' della loro tecnologia ai potenti della terra chiedendo in cambio l'accessazione immediata delle sperimentazioni nucleari noi ci siamo beccati la tecnologia ma le sperimentazioni nucleari dopo un po' le abbiamo riprese perché abbiamo hanno pensato scioccamente stupidamente satanicamente hanno pensato i capi militari e potenti dell'epoca hanno pensato adesso abbiamo un po' di tecnologia extraterrestre ricominciamo a farci cavoli nostri e nel frattempo siccome abbiamo capito che questi qua non possono intervenire per rispetto del libero arbitrio dell'umanità terrestre perché seguono queste leggi spirituali questi extraterrestri siccome abbiamo visto che non possono intervenire in maniera militare e non possono fermarci come noi intendiamo allora nel frattempo mentre noi continuiamo a farci cavoli nostri mentre loro continuano a dare i loro messaggini con i contattisti noi grazie alla tecnologia extraterrestre sviluppiamo delle armi che possano tenerli lontani a questi extraterrestri con questa tecnologia che ci hanno dato noi possiamo combatterli sì buonanotte suonatori come se gli extraterrestri fossero dei deficienti che non capiscono che dare tecnologia significa mettere in mano delle armi alle umanità terrestre ecco loro lo sapevano quindi sicuramente della tecnologia loro che è 100 avranno dato a noi 0,001 e noi con quello 0,001 pensiamo di poter costruire armi e fare la guerra a chi ha 100 siamo ridicoli siamo sciocchi e ridicoli e sono sciocchi e ridicoli non siamo perché non siamo tutti uguali ecco noi siamo dalla parte di chi viene per salvare non siamo dalla parte di chi vive per distruggere per potere e per il dominio sul prossimo e per tutto quello che riguarda è il vecchio paradigma che noi stiamo cercando di combattere in tutti i modi attraverso tanti tipi di attività diverse anche attraverso l'informazione che facciamo tramite questi seminari quindi dopo questa lunga digressione ricominciamo a leggere cosa diceva cosa ha detto questo extraterrestre militare ad our manager appunto ha detto stiamo contattando persone in tutto il mondo qualcosa di molto scioccante accadrà presto e scuoterà tutto il mondo dal suo letargo e lo solleverà dalle tenebre dell'ignoranza verso la luce della consapevolezza e della comprensione ma questo grande evento avverrà attraverso molte incomprensioni risentimento e odio l'umanità di questa terra sceglie di imparare solo attraverso gli errori l'uomo deve imparare ciò che lui è da dove viene e qual è il suo vero scopo qui sul pianeta e noi sappiamo di nuovo piccola parentesi noi sappiamo che tutto questo lo possiamo comprendere come abbiamo detto attraverso la scienza insegnata dagli extraterrestri chiamiamola filosofia cosmica io preferisco chiamarla la scienza dello spirito e filosofia cosmica insegnata dai maestri extraterrestri noi in questo modo possiamo capire chi siamo perché esistiamo da dove veniamo cosa c'è prima della vita chi eravamo prima di nascere cosa c'è dopo la morte che cosa faremo noi dopo il trapasso ecco qual è la funzione dell'uomo nella economia creativa planetaria e universale perché si vive perché esistiamo cioè queste grandi domande le grandi domande dell'uomo possono trovare risposta non tanto nella fede cieca delle favolette teologiche ormai vecchie e ammuffite che non fanno più il loro dovere e hanno portato l'umanità allo stato attuale hanno contribuito a portare l'umanità allo stato attuale quindi no buono non bene noi possiamo capire dare risposta a queste grandi domande dell'uomo alle eterne domande dell'uomo alla eterna ricerca dell'uomo direbbe Yogananda l'eterna ricerca dell'uomo possiamo dare risposta attraverso la scienza dello spirito una risposta che non è una risposta ciecamente fideistica è una risposta di consapevolezza una risposta di conoscenza perché noi dobbiamo passare dal piano della fede al piano della conoscenza questo è il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario il piano dobbiamo passare dal piano della contrapposizione tra fede e scienza tra spiritualità e scienza al piano della integrazione la scienza dello spirito che le civiltà cosiddette acquariane le civiltà che già vivono nella quarta dimensione queste civiltà che ci visitano le civiltà della confederazione interstellare hanno già realizzato questo noi dobbiamo fare questo lo possiamo fare attraverso gli insegnamenti che ci vengono offerti non se ridicolizziamo se minimizziamo se siamo arroganti abbiamo indifferenza no ma io devo faccio da fare i cavoli miei ma il lavoro ma cosa che cosa c'è di più importante che conoscere la verità ma lo avete capito no che dovrete reincarnarvi miliardi di volte finché non avrete realizzato la verità noi dobbiamo reincarnarci fino a che non abbiamo realizzato la verità che è amore che è l'amore creativo questa è la verità che sono gli atti di coraggio nell'altruismo la realizzazione della verità porta a questo quindi l'acquisizione di conoscenza e le azioni amorevoli compassionevoli questo significa realizzare la verità e finché non l'avremo fatto dovremo reincarnarci in stati e condizioni vitali che vatte la pesca come dove quando il grande yogananda diceva ci vuole un ottimo karma anche solo per nascere come esseri umani il fatto di essere nati come esseri umani vuol dire che avete un buonissimo buonissimo karma e quindi che facciamo sprechiamo questo karma facendo cosa andando allo stadio io non lo so ragazzi cioè svegliamoci ma cosa deve arrivare il covid 20 covid 21 covid 22 che covid deve arrivare la peste bubonica la peste nera per farci capire che siamo andati oltre il limite consentito che la pazienza delle intelligenze che governano la creazione è finita e quindi che cosa deve accadere ancora allora diamoci una svegliata informiamoci conosciamo queste sublime meravigliose realtà che possono dare una svolta alla nostra vita perché venendo a contatto con queste conoscenze che cosa succede succede che la nostra forma mentis si trasforma cambia perché studiare leggere approfondire gli insegnamenti che ci vengono dai maestri universali significa entrare in relazione con loro significa entrare in relazione con la loro parola con la loro voce con i loro insegnamenti con i concetti da loro espressi e quindi entrare in relazione con la loro mente e quindi le nostre sinapsi i nostri circuiti neuronali cambiano si trasformano cambiano geometria e quindi noi cambiamo cambiamo la nostra personalità diventa più raffinata si acuiscono le capacità dell'intuizione e anche altre facoltà umane che sono latenti nel momento in cui noi acquisiamo queste conoscenze sviluppiamo un senso diverso e una capacità di amare e di servire il prossimo che è più vicina a quella delle superciviltà acquariane della quarta dimensione quindi cerchiamo di conoscere questi insegnamenti cosa c'è di meglio che sapere la verità ah esiste la verità cioè io quando ho scoperto che la verità esisteva ho detto ma io do tutto alla verità io do tutto tutto faccio tutto per conoscere tutto della verità io voglio sapere chi sono voglio sapere cos'è la vita cos'è la morte cosa c'è nell'aldilà io voglio sapere queste cose che ci hanno fatto credere che sono cose di fede ma quale fede ma io se sono vivo adesso sono vivo per fede non sono vivo per fede sono vivo guarda respiro non è che respiro per fede respiro perché sono vivo quindi quando sarò morto ci sarò sempre ma dove cavolo sarò e lo voglio sapere c'è la possibilità di saperlo non è una questione di fede è una questione di conoscenza ci sono civiltà che lo sanno e ce lo dicono e noi dobbiamo capire che questa è la verità però non è una questione anche qui dogmatica non è la verità perché ce lo dicono loro è una verità perché ce lo dimostrano poi i fatti perché lo studio non è soltanto lo studio e l'indagine poi anche collaterale portare avanti altre ricerche ascoltare ricercatori che parlano di queste cose danno dimostrazione di queste cose ma non è solo questo che è molto importante ma può restare nell'ambito intellettuale è anche la pratica di questi insegnamenti mettere in pratica questi insegnamenti ti dà la dimostrazione concreta che sono veritieri perché tu ne sperimenti gli effetti nella tua vita quindi ragazzi non si scappa da sta storia qua non è che stiamo vedendo chi ha ragione e chi ha torto esistono degli esseri che hanno la ragione assoluta e ce la stanno dando e noi no perché abbiamo delle ideologie diverse no perché non mi risuona allora rifiutiamo ma per piacere allora meritiamo l'estinzione veramente invece dobbiamo meritarci la sopravvivenza attraverso questo coraggioso atto di umiltà di abbassare la testa di dire sì io sono cresciuto in una società malata quindi quello che a me risuona è malato quindi grazie a dio scendete voi tramite contattisti a darmi la verità e io la voglio leggere la voglio conoscere e voglio metterla in pratica ecco fare questo atto di coraggiosa umiltà può significare la differenza tra salvezza e morte seconda questo è in sostanza altro che la partita di pallone noi siamo esseri eterni lo capite che siamo esseri eterni non moriremo mai quindi dobbiamo pensare a noi stessi in termini di eternità che cosa stiamo costruendo come stiamo costruendo la nostra eternità cosa stiamo facendo per il nostro domani che non è il domani fisico di quello che lascerò ai miei figli se la casa o la macchina è il domani spirituale perché noi siamo spiriti incarnati in un corpo fisico ma quando noi ce ne andiamo ma il corpo muore non è che noi ce ne andiamo perché il corpo muore no è il corpo che muore perché noi ce ne andiamo perché noi siamo la vita del corpo quindi quando noi ce ne andiamo il corpo muore e va in putrefazione gli elementi tornano alla loro naturale dimensione noi andiamo a vivere in un altro corpo quindi tutto questo noi dobbiamo saperlo ragazzi Howard Menger George Adamski Eugenio Siragusa Giorgio Bongiovanni hanno parlato di queste cose grazie agli insegnamenti dei maestri cosmici e hanno dato e stanno dando la loro vita per questo ma perché lo fanno? ma perché sono pazzi? evidentemente non sono pazzi e non sono stati pazzi perché i pazzi non raggiungono i risultati che costoro hanno raggiunto non costruiscono queste meravigliose realtà che loro hanno costruito a livello divulgativo a livello di relazioni e così via e non sono tanto saggi i pazzi quindi la loro saggezza perché la mettono a disposizione di tutti? per amore perché hanno già realizzato quei concetti che gli esseri della quarta dimensione e della quinta dimensione vengono a portarci quindi possiamo dire che i contattisti sono degli extraterrestri diciamo via a tutti gli effetti secondo me i contattisti sono extraterrestri in corpi umani quindi questi extraterrestri che vivono tra di noi e noi li ridicolizziamo invece di ascoltarli no sbagliato sbagliato bisogna trovare del tempo e delle energie quotidiane se vogliamo settimanali da dedicare in maniera organizzando il nostro tempo le nostre energie in maniera tale da poter dare spazio nella nostra vita a questi insegnamenti che trasformano la nostra personalità e da personalità malata cresciuta in una società malata la trasformano in una personalità sana degna di ereditare la nuova società adesso basta se no mi sembro vanna marchi quando urlava nelle televendite quindi andiamo avanti allora sarai e continua questo essere sarai ancora illuminato sulla tua vera missione non tutti arrivano alla realizzazione di questo ma quelli che sono stati contattati sono consapevoli del vero scopo dell'umanità ecco manco a farlo apposta lo ha detto lui e continuiamo cosa dice ancora qualche curiosità insomma continuiamo a leggere il discorso di questo essere probabilmente dice questo essere extraterrestre a manger probabilmente sei molto curioso circa molte cose soprattutto al nostro riguardo sei libero di chiedere e manger scrive rilassandomi un po' gli ho posto alcune questioni che prima avevo quasi paura di chiedere ad esempio da dove lui venisse e in che modo arrivassero qui io vengo da venere arriviamo qui a bordo di una nave una nave diversa da qualsiasi cosa tu abbia mai sognato la forza sarebbe per te impossibile da capire è una forza elettromagnetica non dissimile da quella che regge nelle loro orbite i pianeti i soli e perfino intere galassie tale forza è una legge naturale che ci è stata data dal nostro infinito creatore per essere usata per scopi benefici i vostri scienziati hanno scoperto questa energia ma ancora non sanno come applicarla se conoscessero il segreto probabilmente la userebbero per propositi distruttivi fino a quando non saranno pronti ad utilizzarla per scopi pacifici il nostro creatore infinito ne impedirà loro la comprensione e questo bisogna stamparcelo e appenderlo in casa in un quadretto questo concetto non si muove foglia che Dio non voglia quindi tutto quello che accade anche per quanto riguarda le scoperte scientifiche prima abbiamo parlato di evoluzioni politiche sociali eccetera anche per quanto riguarda l'evoluzione tecnico-scientifica questa evoluzione tecnico-scientifica è orientata suggestionata influenzata coordinata guidata da intelligenze superiori intelligenze extraterrestri quindi cosmiche e spirituali che fanno capo alla divina intelligenza ecco qua parla di questo sarebbe per te impossibile capire la forza ecco concetti che poi sono stati approfonditi tantissimo nei messaggi ad esempio proprio del grande Eugenio Siragusa se voi studiate i messaggi del grande Eugenio Siragusa questi concetti sono stati approfonditi tantissimo le forze eccetera e chiudiamo questa prima parte del nostro seminario su Our Manager con la lettura dell'ultima parte del discorso di questo extraterrestre è molto importante dobbiamo dobbiamo terminare questa discussione dice l'extraterrestre Amanger e ti dirò arrivederci amico mio prima lo ha chiamato fratello adesso lo chiama amico mio vedete anche se sono esseri super evoluti che sanno tutto che eppure sono nostri fratelli e ce lo dicono ce lo dimostrano incontrerai altri che continueranno questa istruzione i tuoi contatti diventeranno più frequenti al tuo ritorno negli states la guerra sarà presto finita e tu sarai a casa per Natale abbiamo molto lavoro da fare sul tuo pianeta tra la tua gente e dobbiamo farlo velocemente mentre c'è ancora un pianeta e della gente con cui lavorare in breve tempo saprai a cosa mi riferisco e Menger conclude dicendo pochi giorni dopo qualcuno ha schiacciato un bottone e un inferno di fuoco è caduto su Hiroshima e così finisce si conclude la prima parte del nostro seminario sul grande contattista Our Menger la prossima parte inizierà con Our Menger che ritorna in America il ritorno in America di Our Menger segnerà la sua diciamo l'inizio vero e proprio della sua missione anche divulgativa per molti versi vi leggo un attimo quello che c'è già e che dirò nella presentazione della seconda puntata di questo seminario nella seconda puntata Our Menger appunto ritorna in America dopo la guerra e parleremo della sua vita di adulto perché torna in America ormai è adulto diciamo un ragazzo grande grosso e vaccinato come si dice dopo la guerra ha un nuovo incontro con la donna extraterrestre dell'infanzia la famigerata ragazza della roccia incontra poi anche una coppia di extraterrestri con i quali stabiliscono un nuovo luogo decidono una nuova zona per gli incontri poi parleremo daremo delle nozioni in questa seconda puntata del seminario su Menger daremo delle nozioni di medicina extraterrestre applicata fantastico poi parleremo dell'incontro che lui che Menger ha con due marziani con cui installano installa dei dispositivi per la amplificazione dell'energia psichica li proprio li piazza in giro per i boschi intorno alla cittadina bellissimo poi parleremo di Menger anche in senso con un velo di umorismo parleremo di Menger come factotum degli extraterrestri veramente come dirò ne vedremo delle belle poi parleremo dell'incontro di Menger con un uomo dello spazio e le prime fotografie di Menger infine parleremo del suo primo viaggio in astronave questi sono gli argomenti della seconda puntata del nostro seminario intanto io vi ringrazio per aver assistito a questa prima puntata del seminario su Our Menger il grande contattista americano e vi do appuntamento alla seconda puntata non perdetevela perché è veramente veramente interessante vi ringrazio cari amici per l'ascolto e spero che le mie parole possano entrare nei vostri cuori perché sono parole di verità io le pronuncio con verità e anche coscienza quindi noi siamo fratelli dimostriamo di essere fratelli di essere amici attraverso le azioni attraverso le opere concrete e cerchiamo in tutti i modi di alimentare questo nuovo rinascimento perché mentre tutto sta cadendo in rovina i fiori sbocciano gli uccellini cantano il sole sorge ok a buon intenditor poche parole amici pace su tutte le frontiere a presto a